Allora, onorevoli parlamentari, onorevole ministro, elettrici, vettori, delegati e colleghi, iniziamo questa giornata, mi presento velocemente, sono Massimo Sidevi, editorialista del Corriere della Sera su Scienza e Tecnologia e professore all'Università Luis, professore aggiunto, lo dico sempre con umiltà ma con grande orgoglio. Allora, iniziamo questa giornata sullo Human Technopole per lanciare il piano ed è un piano che chiaramente mi vede qui anche con una soddisfazione personale visto che ho difeso il progetto nelle varie fasi, un progetto che si incastona in realtà sia a livello locale a Milano su questo nuovo ecosistema dell'innovazione che nasce, come sapete tutti quanti, sulle ceneri dell'Expo, quindi il MIND, il Milano Innovation District, ma anche a livello nazionale, come vedremo oggi, perché si incastra perfettamente nella strategia nazionale di investimenti per la ricerca. Allora, dovremmo avere in collegamento il ministro Orazio Schillaci, il ministro della Salute, allora intanto vi inizio a leggere il messaggio che è arrivato dall'onorevole Giancarlo Giorgetti, inviato dal presidente Gianmario Verona e al direttore Marino Zerial e a tutti i partecipanti dell'evento odierno. Chiaramente il ministro inizia con i saluti, con il piano strategico 2024-2028 Human Technopole passa dalla fase di start-up a quella di scale-up, in particolare l'apertura delle piattaforme nazionali completa il percorso per rendere la fondazione un asset per l'intero sistema nazionale di ricerca sulla biologia e sulla salute umana. È un obiettivo a cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha lavorato dal 2016. Per questo la soddisfazione dei risultati conseguiti si associa alla determinazione nel continuare a fissare obiettivi ambiziosi. La capacità di innovazione tecnologica è la sfida sulla quale competono le potenze mondiali. Questo è ancora più vero nel campo delle scienze della vita, anche grazie alle potenzialità nell'utilizzo dei dati. Di fronte a questo salto tecnologico, l'Italia ha la qualità scientifica ed industriale per essere un riferimento a livello globale, a condizione di utilizzare le risorse pubbliche in modo selettivo ed efficace. Investire su Human Technopole è dunque parte della strategia mirata alla specializzazione del Paese e sui settori ad alta tecnologia. Per questo il Centro deve preservare standard di eccellenza mondiale nel reclutamento delle risorse umane e nella valutazione dell'attività scientifica. Diventare un polo nazionale per la formazione avanzata e soprattutto un riferimento per il trasferimento tecnologico. Le fondazioni di ricerca devono infatti utilizzare la flessibilità gestionale che connota il loro modello organizzativo per mantenere un carattere distintivo, dimostrando la capacità di lavorare con il sistema produttivo. Il MEF vigilerà su questo aspetto, monitorando l'equilibrio di risorse che la fondazione progressivamente dovrà conseguire tra dotazione dello Stato ed altre entrate, come quella da collaborazioni industriali e grant competitivi. Utilizzare in modo efficace le risorse significa inoltre collaborare con gli altri attori della ricerca italiana. Mi riferisco da un lato agli enti attivi nelle scienze della vita, grazie alla potenzialità delle piattaforme nazionali. Dall'altro alle fondazioni vigilate dal Governo, che devono essere pronte ad evolvere per anticipare e accompagnare gli avanzamenti della frontiera della ricerca. Sempre più forti sono ad esempio le interazioni tra scienze della vita, intelligenza artificiale, progettazioni di nuovi materiali con capacità funzionali tipiche dei sistemi biologici. Mi auguro che lo Human Technopole sappia prendere le fila di queste interconnessioni, continuando a collaborare con l'Istituto Italiano di Tecnologia, a cui è legato fin dalla sua nascita. Così come auspico un lavoro comune con la fondazione CIPCT di Pavia, per cogliere il potenziale dello sviluppo dei microprocessori per il campo della salute, ambito ancora non presidiato a livello mondiale e su cui l'Italia potrebbe conseguire un vantaggio competitivo, e con la fondazione AI for Industry per l'applicazione di metodi di intelligenza artificiale. Concludo augurandovi buon lavoro e confermando che nel percorso di attuazione del nuovo piano strategico, il MEF continuerà a esercitare la propria vigilanza, con l'ambizione comune di rendere Human Technopole un vanto per il Paese, e un riferimento nel panorama internazionale. Allora questo è il saluto del Ministro Giorgetti, non so se nel frattempo abbiamo il collegamento con il Ministro Orazio Schillaci, al quale do subito la parola. Grazie mille. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto il Ministro Giorgetti che ha mandato un messaggio. Grazie mille. 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 Allora grazie al Ministro Schillaci per questo intervento e saluto. Sono tornati diversi termini che sottolineo, capacità attrattiva, modello aperto, chiaramente vedremo come oggi l'aspetto dell'open innovation applicato alla scienza sarà uno degli elementi cardine di questo piano, ma anche governance, ho segnato utilizzo delle risorse e non sottovalutare l'aspetto del dialogo. Mi sembra che sia emerso da ambedue gli interventi dei due ministri il tema del dialogo con gli altri centri di ricerca, quindi torniamo all'aspetto nazionale e oserei dire anche internazionale, visto che le ambizioni ci sono e il dialogo deve essere aperto con tutti i centri di ricerca, sono stati citati il CNR, l'Istituto Italiano di Tecnologia, CIP, CT, quindi abbiamo già una compagine di istituti che possono sul serio dare solidità a questo sistema della ricerca. Allora passo la parola a Marcella Panucci, capo di gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Grazie mille. Sì, prego. Allora, buongiorno, grazie, grazie a tutti, grazie dottor Sideri. Porto i saluti del Ministro Bernini, che purtroppo oggi non potrà essere presente, ma che ci teneva a testimoniare il grandissimo interesse e soprattutto l'apprezzamento straordinario del nostro Ministero verso Human Technopole e verso quello che sta succedendo oggi. Ringrazio il Presidente Gian Mario Verone, il Direttore Generale Mario Zerial e i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché tutta la struttura di Human Technopole, gli scienziati e la struttura amministrativa. Io ho l'onore di sedere nel Consiglio di Sorveglianza di Human Technopole dal 2018, quindi sono una veterana della Fondazione che ha visto i tantissimi cambiamenti accaduti nell'ambito della Fondazione. Il Ministro Giorgetti nel suo messaggio richiamava il passaggio da startup a scale up. Io vorrei dire che oggi celebriamo il passaggio all'età adulta della Fondazione Human Technopole. Human Technopole entra di pieno diritto negli enti di ricerca più importanti del nostro Paese, più importanti a livello internazionale. Il cambio di governance avvenuto due anni fa, se non sbaglio ormai un anno e mezzo fa, ha segnato un importante cambio di passo. Un importante cambio di passo nella relazione con la comunità scientifica, un importante cambio di passo nella relazione con le altre fondazioni, che ha fatto sì che Human Technopole potesse arrivare finalmente a implementare una convenzione che era stata stipulata tra i vari ministeri e la Fondazione alla fine del 2020, e che regolava la futura apertura delle piattaforme. Devo dire, e qui voglio ringraziarle in maniera particolare, una fortissima azione di stimolo è stata portata avanti dalla senatrice, professoressa Cattaneo, che ci ha spesso richiamati alla necessità di aprire la fondazione, di renderla fruibile, di renderla un'infrastruttura, una facility vera e propria per tutta la comunità scientifica italiana, facendo sì che quell'investimento che il Paese ha fatto su Human Technopole fosse un investimento dell'intera, a favore dell'intera comunità scientifica. Per questo oggi è importante la presentazione delle piattaforme. Marino, nella tua intervista di due giorni fa al Corriere della Sera hai spiegato benissimo cosa vuol dire aprire cinque piattaforme, cosa vuol dire per la comunità scientifica, cosa vuol dire avere delle infrastrutture di ricerca nel nostro Paese. Il governo, il ministro Bernini, ha puntato in maniera forte sulle infrastrutture di ricerca. Noi facciamo parte di una rete europea, la rete Espri, e questa infrastruttura si adegua alle linee guida di Espri. Le infrastrutture sono importanti perché consentono di creare sinergie tra ricercatori di varie estrazioni, di diversa origine, tra ricercatori di diversi ambiti disciplinari. Peraltro, poi lo dirà Marino, ma lo hai anticipato nell'intervista, la transdisciplinarietà dell'attività di ricerca di Human Technopole è uno degli attu più importanti della fondazione in questa fase. Le infrastrutture, lo diceva il ministro Schillaci, consentono di attrarre i migliori talenti nel nostro Paese. Le misure economiche e finanziarie sono importanti, vedo il ragioniere generale dello Stato e quindi mi appello a lui sul mantenimento di queste misure, però soprattutto sono importanti le facilities per fare ricerca per un ricercatore. Un ricercatore cerca la capacità di un ente di ricerca di fornirgli tutte le infrastrutture, tutti i mezzi, perché possa scoprire qualcosa di nuovo. Human Technopole è importante per formare competenze, è uno delle caratteristiche delle piattaforme ed è uno dei fattori più importanti per la crescita e la competitività del nostro Paese. Peraltro il fatto che Human Technopole sia collocato all'interno di Mind, che è un'area che sta sviluppando uno dei più importanti ecosistemi dell'innovazione del nostro Paese, dà anche la dimensione di quello che vuole essere nei confronti della comunità industriale e non soltanto scientifica. Il trasferimento tecnologico è uno dei punti più importanti dell'attività che Human Technopole deve svolgere per far sì che quella ricerca scientifica che oggi viene svolta si trasformi in innovazione, come si trasformi in prodotti e in servizi che beneficino direttamente le persone. Un ultimo punto vorrei segnalare a testimonianza del valore che noi, che il Ministero dell'Università della Ricerca e l'intero Governo attribuiscono alle infrastrutture di ricerca, sta nel fatto di aver inserito nelle nostre linee guida sulla valutazione della qualità della ricerca indirizzate all'Ambur, approvate qualche mese fa dal Ministro Bernini, le infrastrutture di ricerca come uno degli asset da valutare all'interno della VQR. E questo è un tema molto importante che ha trovato concorde l'intera comunità scientifica e gli enti di ricerca rappresentati dal Comper, in quanto poi sarà determinante anche nella ripartizione del FOE, del Fondo Ordinario che va a favore degli enti di ricerca. Quindi, diciamo, si fa un passaggio ulteriore da una volontarietà della valutazione a una, diciamo, capacità di utilizzare la VQR anche a fini economici finanziari, per indirizzare gli enti verso alcune priorità di ricerca che noi riteniamo molto importanti. All'interno di queste, appunto, le infrastrutture. Io non vorrei sottrarre troppo tempo. Oggi la giornata sarà intensa. So che c'è più di un migliaio di persone collegate. Questo a testimoniare l'importanza che la nostra comunità scientifica attribuisce alle piattaforme di Human Technopole. Oggi, diciamo, celebriamo davvero una cosa molto nuova in Italia. Cioè, celebriamo un momento che mi crea tanta emozione perché io, appunto, sono una decana del Consiglio di Sorveglianza, partecipo da tanti anni e ho visto davvero la differenza. Quindi non vorrei sottrarre tempo, ma dico che questo è un bel modo di investire le risorse pubbliche. Perché è un modo di investire le risorse pubbliche che va a vantaggio non soltanto di un ente pure importantissimo, ma va a vantaggio dell'intera comunità scientifica italiana. Quindi, in bocca al lupo Marino e in bocca al lupo a Human Technopole. Grazie. Allora, ringrazio il capo di gabinetto, Marcella Panucci, capo di gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Lo ricordiamo. Peraltro, aggiungo soltanto una velocissima considerazione, lo Human Technopole non solo si incastona nel sistema nazionale degli investimenti in ricerca scientifica, ma lo fa in un settore in cui abbiamo sempre avuto un'eccellenza scientifica molto importante. Questo è quello che mi rende molto ottimista e rende le ambizioni di questo progetto credibili. Perché ricordiamo soltanto nell'area di Milano abbiamo dei centri molto importanti, senza voler ricordare tutti gli altri, chiaramente a livello nazionale. Ma visto che questo progetto fa parte proprio di un ecosistema, potremmo chiamarlo una piccola Silicon Valley delle scienze della vita, insomma, se non fosse ormai il termine Silicon Valley, va considerato anche superato per certi versi. Comunque ricordo l'Humanitas, il San Raffaele, l'Istituto Mario Negri, l'OIEO, e non mi stancherò mai di ricordare che le scienze della vita hanno anche negli scienziati italiani un momento fondamentale che ha definito anche l'indivizio che è stato preso negli ultimi decenni. Ricordo soltanto l'esperimento nel 1992 di Claudio Bordignon, sottolineato da Nature come il primo sulle cellule staminali del sangue. Quindi prendiamo un track record molto positivo e quindi non stiamo costruendo una cattedrale nel deserto. Questo è l'elemento da sottolineare assolutamente. Allora do la parola a Gian Mario Verona, Presidente del Consiglio di Sorveglianza Scusate dello Human Technopole. Prego. Buongiorno a tutti, un saluto agli onorevoli parlamentari, ai colleghi rettori, alle autorità che sono presenti oggi in una giornata che è una giornata di festa per Human Technopole, mi sento di dire. Io ringrazio sentitamente innanzitutto il Dottor Leonardo che ci ha permesso di usufruire di questa sede speciale per poter fare l'annuncio delle piattaforme nazionali che rappresentano un tema chiaramente importante per come è stato detto dagli interventi che mi sono preceduti. Ringrazio ancora una volta sentitamente, come avete già fatto, il Ministro Schillaci, il Ministro Giorgetti, la Dottoressa Panucci per il Ministro Bernini per aver da un lato elogiato quello che si sta facendo in Human Technopole, ma soprattutto, mi permetto di dire, per aver alzato ulteriormente la sticella che ovviamente nei prossimi anni dovremmo cercare appunto di realizzare dal punto di vista delle azioni concrete per riuscire a far sì che non solo il piano strategico che andiamo a presentare, ma anche le piattaforme nazionali possano rappresentare effettivamente una risorsa preziosa per il campo delle scienze della vita. Allora, io vorrei trattare quattro temi in modo molto generale per richiamare a tutti voi, prima dell'intervento più importante del professor Ricciardi e del professor Zerial che entreranno poi nel vivo tecnico delle piattaforme nazionali, un po' di storia e anche di geografia, visto che è stato ricordato che ha una posizione particolare in Milano Human Technopole. Vorrei raccontarvi sinteticamente cos'è accaduto fino ad oggi. Soprattutto vorrei mettere in evidenza l'aspetto che io ritengo molto molto importante, cioè il fatto che abbiamo compiuto un viaggio che oggi ci porta effettivamente a condividere il piano strategico 24-28 che ha delle caratteristiche che sono importanti per la ricerca italiana, non solo per quanto faremo a livello intramura il Newman Technopole, ma per quello che faremo con voi all'interno appunto delle facility che metteremo a disposizione. Vorrei dare un riconoscimento agli organi che caratterizzano la nostra organizzazione, la nostra istituzione, visto che sono organi altamente complessi e hanno ovviamente appunto una sorveglianza da parte dei ministeri sistematica che richiede un'attenzione molto molto particolare. E da ultimo mi permetto da economista di fare anche un riferimento sull'importanza della Open Innovation, quindi qualche riflessione conclusiva che cerca di valorizzare quanto stiamo facendo. Allora parto con un po' di storia e di geografia di Newman Technopole. Come è stato ben ricordato, Newman Technopole nasce sulle ceneri di un evento importante per l'Italia, importante per Milano, ma direi importante anche per l'Italia perché ha messo ulteriormente in evidenza il vantaggio comparato che questa fantastica nazione ha e che può naturalmente appunto manifestare a livello mondiale. Come ricordate la sede italiana di Expo era Palazzo Italia e fu deciso ancora nel 2016 che poteva nascere proprio all'interno di questo distretto, non solo un distretto di innovazione, ma anche in particolar modo per quanto concerne l'audience che oggi appunto è qui presente, che è interessata soprattutto al tema della scienza e della vita, una istituzione che potesse fare da ulteriore elemento catalizzatore di conoscenza scientifica ed eventualmente naturalmente anche industriale sul tema ovviamente della ricerca di base. Quindi questo è un aspetto che è stato preso ovviamente subito in termini ovviamente di valorizzazione e la missione di Newman Technopole come sapete è stata ulteriormente arricchita con due leggi che sono state poi nel 2019 messe in campo, una in particolar modo che è quella che vede le piattaforme nazionali che diventano un elemento centrale del business model di Newman Technopole e un'altra legge che stimola Newman Technopole anche a effettuare un coordinamento del trasferimento tecnologico per quanto concerne il tema delle scienze della vita. I tre ministeri che ci sorvegliano e che rappresentano, io da economista dico, i nostri shareholder sono il MEF, il MUR e naturalmente il Ministero della Salute e il rapporto che abbiamo sistematicamente anche con questi ministeri ci aiuta a tenere non solo vivo il nostro istituto ma anche a riuscire ad allinearlo alle best practice che ci sono a livello nazionale e auspicabilmente naturalmente anche a livello internazionale. Forse si è scaricato il clicker, vediamo se... ok perfetto. Questa è la geografia di Newman Technopole quindi in modo ancora più specifico vi illustro che Newman Technopole è appunto in Palazzo Italia, lo vedete nella freccia viola che evidenzia la sede attuale appunto di Newman Technopole dove nel frattempo in questa parte a nord ovest di Milano si è progressivamente creato quello che visto che Massimo Sideri parlava di Silicon Valley, adesso Silicon Valley come al solito è una metafora, analogia eccessiva per qualsiasi tipo di ecosistema però diciamo un piccolo ecosistema che si sta valorizzando sempre di più soprattutto la cosa che mi piace dire non solo intorno al tema dell'innovazione ma intorno proprio al tema delle scienze della vita quindi l'ospedale Galeazzi ha aperto un istituto estremamente importante che è visibile dalle varie parti delle autostrade che circondano la zona appunto di Ro e anche due importanti aziende industriali che sono AstraZeneca e Illumina hanno aperto le loro sedi appunto vicino a noi all'interno di Human Technopole e la cosa più importante io credo dal punto di vista anche della ricerca italiana è che l'Università Statale di Milano ha incominciato i lavori per effettuare il trasferimento quindi questo polo verde che vedete all'interno di questa figura rappresenta un'importante ovviamente iniziativa che porterà di fronte proprio a Human Technopole anche un gruppo di dipartimenti dell'Università di Milano che hanno a che fare proprio con il mondo STEM e quindi anche alla luce dell'importanza della ricerca in termini interdisciplinari e multidisciplinari questo è un ulteriore elemento che favorirà ulteriori ovviamente efficienze e anche potenzialmente anche elementi di creatività e di efficacia e qual è stato il viaggio di Human Technopole ma diciamo che il viaggio è stato ben riassunto probabilmente in queste due fasi quindi una fase iniziale di start up come tutte le istituzioni che devono nascere anche quelle di ricerca richiedono tanta attività di progettazione che non è affatto banale alla luce anche delle ambizioni che sin dall'inizio erano poste nei confronti di Human Technopole è quello che è stato fatto a partire dal 2019 che è il momento in cui sono stati appunto istituite le prime appunto attività è quello di iniziare a costruire anche i laboratori e oltre che aggregare scienziati di caratura internazionale che ringrazio perché molti di loro sono qui oggi e che appunto rappresentano anche un rientro di cervelli significativo per il nostro paese mi piace anche ricordare che quello che è stato fatto è stato fatto in un momento storico estremamente complicato non solo per il paese ma per tutto il mondo Milano sapete è una delle città che per prime ha attivato un lockdown per quanto concerne il Covid-19 e il fatto che nonostante tutto sia stato portato avanti un progetto anche di sviluppo dei laboratori è una cosa che dà merito ovviamente a quanto appunto è accaduto fino ad oggi a febbraio del 2021 sono stati inaugurati i primi laboratori e di conseguenza a partire dalla seconda parte del 2021 abbiamo incominciato a diventare attivi dal punto di vista della ricerca e un cambiamento importante pure avvenuto poi a partire dal luglio 2022 quando è stato insidiato un consiglio di sorveglianza nuovo che ha avuto tre obiettivi fondamentali in primo luogo identificare il direttore che poteva portare avanti il progetto di Human Technopole con riferimento in particolar modo non solo alla continuazione della ricerca intramural ma soprattutto all'attivazione delle piattaforme nazionali e abbiamo avuto la fortuna di poter non solo individuare ma anche convincere un personaggio particolarmente importante che tutti conoscete in quanto è naturalmente uno scienziato brillante che ha percorso tutta la sua attività di carriera all'estero quindi è una doppia soddisfazione perché è un cervello di rientro tra l'altro da un'istituzione che è un benchmark a livello internazionale che è il Max Planck che ci permetterà appunto nei prossimi anni di valorizzare il progetto delle piattaforme la seconda cosa che ha fatto il consiglio di sorveglianza ovviamente in attività congiunta con il comitato di gestione che gestisce la parte esecutiva di Human Technopole è quella di implementare naturalmente quelle che sono le attività immaginate dalla convenzione e in particolar modo una delle cose più articolate e anche non semplici da poter attivare è stata l'identificazione della commissione di valutazione permanente dei progetti che verranno appunto valutati di cui parleremo appunto in un secondo momento con l'intervento del professor Zeria e del professor Ricciardi e da ultimo, ancora dal 2023, abbiamo anche approvato il piano strategico che a questo punto porterà Human Technopole al 2028 e che verrà illustrato in dettaglio dal professor Zeria nel suo intervento mi piace solamente sottolineare come il punto di partenza del piano strategico 2024-2028 è su basi solide perché questi sono i principali parametri che caratterizzano Human Technopole oggi quindi è un istituto di ricerca che è composto da circa 300 scienziati che hanno anche una produttività che è particolarmente significativa quindi non solo, dicevamo, sono prevalentemente anche scienziati di rientro con una diversità di genere notevolissima e anche con una rappresentatività a livello internazionale di numero di passaporti sicuramente coerente e invidiabile per tutte le istituzioni internazionali ma che anche in pochi anni, perché fondamentalmente in due anni e mezzo da quando abbiamo i laboratori, sono riusciti non solo a già produrre un numero di pubblicazioni che ancora una volta è allineato a quelle che sono le istituzioni benchmark a livello internazionale ma soprattutto anche a incominciare a raccogliere dei grant che vanno oltre agli importanti proventi che generosamente i ministeri ci affidano di conseguenza è anche la dimostrazione di un obiettivo di diversificare progressivamente con la ricerca intramural quella che sono le nostre fonti di ricavo per poter appunto valorizzare ulteriormente le attività che le mettiamo in campo l'altro aspetto che volevo sottolineare è che il piano strategico enfatizza, come verrà illustrato in modo più specifico dal professor Zerial proprio la necessità di mettere in campo un percorso nelle scienze della vita di ricerca multidisciplinare e anche multiscala che è proprio la grande opportunità che abbiamo a disposizione avendo delle facility e di conseguenza dei laboratori con delle strumentazioni che sono molto molto efficaci e anche molto ovviamente impegnative e costose e questi sono un po' i quattro pilastri del business model di Human Technopole da un lato continuare la ricerca intramural che è la ricerca con cui naturalmente i nostri scienziati portano avanti i loro percorsi e che avranno progressivamente anche una serie di sfumature come verrà evidenziato che sono anche molto come dire integrate dal punto di vista dei risultati di ricerca in secondo luogo appunto le piattaforme nazionali quindi fornire le infrastrutture affinché appunto i ricercatori degli IRCS, degli enti di ricerca italiani e delle università possano venire a mind e di conseguenza far leva su queste strumentazioni e poi anche naturalmente fare attività di formazione che è importante per far sì che i progetti che ospiteremo siano progetti anche di elevata qualità di conseguenza di elevata innovatività per poter di conseguenza contribuire proprio come è stato detto anche nella lettera del ministro Giorgetti dalle parole del ministro Schillaci e anche dalla dottoressa Panucci che possono anche come dire accettare le sfide che il mondo ovviamente della salute ci sta ponendo proprio in questi in questi anni e da ultimo ma non per ultimo naturalmente seppur in questo settore come sappiamo il time to market è di lungo termine di 12-15 anni anche prestare attenzione a quella risorsa fondamentale della ricerca industriale che è il trasferimento tecnologico di conseguenza anche cercare di prestare attenzione a questo punto assolutamente fondamentale. Entro il 2028 dovremo anche avere come dire l'opportunità di allargare i nostri laboratori abbiamo già come illustreremo con attenzione e con dettaglio nel pomeriggio tutta una serie di strumentazioni che ci permettono di aprire il bando però attualmente siamo all'interno della sede con gli uffici amministrativi di Palazzo Italia abbiamo costruito una serie di laboratori intorno a Palazzo Italia alcuni dei quali sono sviluppati in quelle infrastrutture che vengono chiamate nello slang dei container che hanno un ciclo di vita di 5 anni e che appunto per il 2028 dovranno andare a confluire come evidenzia questa figura in una struttura che conterrà tutti i principali laboratori quindi questo è un aspetto molto molto importante e questo ci aiuterà ovviamente naturalmente a coordinare poi le attività in modo ancora più ovviamente efficiente da un punto di vista logistico e dal punto di vista operativo un ringraziamento agli organi che caratterizzano Human Technopole però questa carattella mi permette anche di illustrare come le risorse che riceviamo vengono non solo gestite da un team di persone che sono altamente competenti che sono guidate dal professor Zerial ma sono anche controllate in modo molto molto articolato perché dovete sapere che Human Technopole ha una governance come si dice nel linguaggio della governance dualistica quindi ha un comitato di gestione che è prescritto dal professor Zerial e però anche un consiglio di sorveglianza che di conseguenza esercita quello che è l'indirizzo strategico il controllo e la valutazione delle attività che vengono messe in campo da Human Technopole e poi naturalmente ha una serie di organi di controllo più specifici un colloge dei revisori, un magistrato della Corte dei Conti e anche un organismo di vigilanza e non da ultimo ha due board fondamentali dal punto di vista tecnico-scientifico che supportano l'attività di gestione di Human Technopole e aiutano a garantire il coordinamento strategico molte persone sono presenti in sala o sono collegate abbiamo più di mille persone che sono collegate che stanno seguendo questo evento quindi sono particolarmente contento questi sono i nominativi del consiglio di sorveglianza che ho il privilegio di presiedere e che il consiglio di sorveglianza che sia come tutti i consigli di istituzioni importanti si è dotato di tre comitati endoconsigliari che sono presieduti dalla dottoressa Pasinelli che saluto vedo presente direttrice di Telecom dall'avvocato Panucci e dalla professoressa Sileoni e che ci aiutano anche a produrre delle istruttorie ancora più analitiche rispetto a quello che è il lavoro che il consiglio di sorveglianza abitualmente fa ringrazio ovviamente il ragionare generale Biagio Mazzotta per essere presente con noi oggi e che partecipa in modo sempre puntuale e sempre efficiente alle nostre riunioni abbiamo un comitato di gestione che è stato nominato dal consiglio di sorveglianza che come dicevo è presieduto dal professor Zerial e che è composto da due massimi esperti nella gestione amministrativa gestionale il dottor Minnella e il dottor Terragni che ringrazio per la loro presenza oggi e da due esperti del campo scientifico la professoressa Bozzoni e il professor Piccolo abbiamo anche un comitato di revisori con tre appunto tecnici che vengono nominati dai tre ministeri ed è presieduto dalla dottoressa Marzo del MEF abbiamo un organismo di vigilanza ci siamo dotati abbiamo deciso per la legge 231 naturalmente e abbiamo poi l'immaginato della Corte dei Conti la dottoressa Bocci che ci aiuta in tutti gli interventi ovviamente del consiglio di sorveglianza e del comitato di gestione presente e che dal primo dicembre del 2023 ha sostituito il dottor Napoli nella attività appunto del controllo della Corte dei Conti abbiamo come dicevo però due advisory board estremamente importanti che sono il comitato di scientifico che è presieduto dal professor Ricciardi che farà un intervento successivamente e che ci aiuta appunto a identificare i pattern scientifici principali per Human Technopole e che è a stretto contatto non solo con il comitato di gestione ma anche con il consiglio di sorveglianza ed è composto da scienziati particolarmente brillanti a livello internazionale e che appunto si incontrano sistematicamente e che aiutano il nostro team a mettere in campo tutta una serie anche di importanti elaborazioni dal punto di vista della ricerca in tramura oltre che hanno avuto un ruolo fondamentale per l'attivazione delle piattaforme come verrà illustrato dal professor Ricciardi e da ultimo abbiamo anche attualmente appunto l'opportunità di avere il comitato indipendente di valutazione permanente che è stato nominato e che ci ha permesso di aprire definitivamente i bandi sul comitato parlerà successivamente sia il professor Ricciardi che il professor Zerial e mi piace anche qua evidenziare come è scomposto da esperti internazionali che rappresentano a questo punto una terza parte che renderà ancora più indipendente la valutazione dei vari progetti e di conseguenza che permetterà un'attivazione di qualità particolarmente alta di quello che verrà a essere svolta all'interno di Human Technopole ed è presieduto dal professor Mancia che è professore della Columbia University di biofisica e che rappresenta l'unteriore garanzia della qualità delle attività che verranno appunto messe in campo chiudo il mio intervento facendo qualche riflessione conclusiva rispetto all'importanza di quanto sta accadendo in Human Technopole e quanto potremmo fare in termini di ricerca scientifica mi piace evidenziare che è un momento straordinario che la ricerca sta vivendo in questi anni è un momento straordinario perché è un momento che amiamo chiamare nella storia economica di quarta rivoluzione industriale siamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale con le tecnologie digitali che producono grandi dati che stanno in qualche modo appunto alimentando in modo incredibile non solo i nostri comportamenti i servizi che riceviamo come cittadini ma sempre di più anche la qualità della ricerca scientifica mi piace evidenziare giusto a livello aneddotico come in questo momento storico è l'intelligenza artificiale che sembra giusto Carla da padrona dal punto di vista delle applicazioni abbiamo strumenti come GPT che rappresenta come dire l'applicazione che è diventata più famosa di intelligenza artificiale che in poco tempo sta collezionando un numero incredibile di utenti ha impiegato sostanzialmente due giorni a raggiungere un milione di utenti ha impiegato due mesi a raggiungere 100 milioni di utenti gli ultimi dati ci dicono che sia superiore a 300 milioni di utenti a un anno e mezzo da quando è stata rilasciata a livello pubblico e c'è GPT sapete non è l'unica ci sono cloud di Amazon ci sono Gemini di Google ci sono tante applicazioni che stanno diventando anche multimodali dal punto di vista dei dati che impiegano non solo i testi ma anche ovviamente video e immagini di conseguenza abbiamo sempre di più una capacità dal punto di vista della raccolta delle informazioni e della produzione con la generativa AI di ipotesi che è particolarmente significativa eppure non vi sarà sfuggito che ci sono stati iscritti un paio di articoli in proposito particolarmente interessanti uno su PNAS nel 2016 e uno più recentemente su Nature sembra che la ricerca scientifica stia diventando meno creativa meno come si dice in gergo ormai diventato ufficiale meno disruptive si fa sempre più innovazione ma l'innovazione sembra sempre più incanalata su quelli che sono i risultati già prodotti e quindi le grandi invenzioni le grandi come dire scoperte che hanno caratterizzato se vogliamo il Novecento sembrano in realtà appunto meno meno accessibili le motivazioni che sono state adotte da questo gruppo di scienziati il paper di PNAS è scritto da due matematici quello di Nature da un gruppo di economisti e scienziati politici è legato al fatto che le discipline sono sempre più complesse sono sempre più ricche sono sempre più verticali che i percorsi di carriera a volte come sappiamo premiano la quantità non necessariamente ovviamente l'innovatività dei singoli paper e poi molto spesso anche gli aspetti che caratterizzano un po' la burocrazia della scienza moderna che naturalmente si caratterizza per tutta una serie di fattori molto molto complicati dal punto di vista proprio dell'erogazione dei grant e anche dell'attivazione dei grant quindi il call che viene sostanzialmente dato da questi paper cercare di rendere ancora una volta la ricerca più interdisciplinare cercare di renderla anche sempre più aggregata perché questo è un aspetto che sicuramente potrebbe migliorare l'impatto dal punto di vista della scienza a questi risultati mi piace aggiungere un risultato importante pure di un collega economista che è il professor Arora di Duke e di tutto il team con cui appunto sta facendo i risultati tutta una serie di ricerche in proposito che dimostrano come effettivamente negli ultimi vent'anni rispetto al Novecento la ricerca delle imprese, delle corporation che tanto ha dato alla scienza durante il Novecento grazie alla creazione di laboratori molto importanti che hanno anche sviluppato tanta ricerca scientifica è diventata sempre più una ricerca industriale sempre più finalizzata al profitto come si dice della R&D c'è sempre più D e sempre meno R e quindi l'R è sempre più delegata alle risorse pubbliche e alle risorse governative motivo per il quale diventa ancora più importante valorizzare il contributo che a livello governativo viene dato appunto alla ricerca scientifica proprio per creare e cercare di attivare questa coesione per poter far sì che poi l'attività industriale riesca a decollare e a valorizzarsi anche a livello naturalmente nazionale quindi tutte queste cose ci dicono in sintesi che la ricerca anche nel nostro campo delle scienze della vita è opportuno che sia più interdisciplinare che sia sempre più aggregativa che sia sempre più aperta per poter ovviamente appunto creare quella massa critica che favorisca naturalmente quella che è un'attivazione di risorse che portino non solo all'efficienza ma anche all'efficacia e da ultimo anche che ci sia quella tensione la ricerca scientifica deve rimanere la ricerca scientifica ma anche quella tensione verso la parte traslazionale proprio per creare quel bridge, quel ponte importantissimo anche con la ricerca industriale allora queste cose in qualche modo il team di Human Technopole spera di metterle in campo nei prossimi anni sicuramente come vedrete dalle prossime presentazioni cercherà di farlo perché l'intento è quello e con questa squadra speriamo veramente di poter supportare tutti quanti voi nel riuscire a far sì che ci sia questa convergenza di risorse e di competenze per poter immaginare appunto una qualità della ricerca scientifica ancora più competitiva rispetto al già alto valore che caratterizza la ricerca in questo Paese grazie mille allora grazie a Gian Mario Veona Presidente del Consiglio di Sorveglianza dello Human Technopole anche qui mi permetto solo di dare due veloci considerazioni la prima è sull'aspetto che lo Human Technopole sapete è una fondazione privata finanziata con fondi pubblici ma che è aperta appunto questo è la natura del modello aperta anche a investimenti privati un modello che ormai sta diventando il modello di riferimento in Italia era nato con l'Istituto Italiano di Tecnologia replicato con lo Human Technopole ripreso dal chips.it quindi anche questo è un modello del tutto coerente anche con quella che è la natura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sapete sta andando sempre di più spinge sempre di più verso un partenariato pubblico privato quindi anche questo è un aspetto da sottolineare il tema dell'apertura adesso entriamo più nel vivo appunto dell'aspetto dell'open innovation applicato non solo dal punto di vista economico ma anche alla scienza forse più noto dal punto di vista della tecnologia rispetto alla scienza Gian Mario Verona ricordava il World Wide Web che è un esempio perfetto perché voi sapete che il World Wide Web nasce proprio come modello aperto da parte del CERN nel 1991 quindi l'apertura di un modello tecnologico sul quale poi si è innestata una delle più grandi industrie del mondo però è utile ricordare che il primo sito del web è stato appunto quello del CERN di Ginevra e quindi in qualche maniera c'è questo legame tra la scienza e la tecnologia del web la tecnologia aperta che ritorna oggi e quindi per parlare sull'aspetto dell'apertura della scienza allo Human Technopole chiamo Marino Zerial direttore dello Human Technopole sulla sua competenza scientifica è già stato detto aggiungo soltanto una nota sullo stile e sulle qualità umane perché è da un anno che ci frequentiamo è da un anno che sbaglio l'accento del cognome e non me l'ha mai detto l'ho sempre chiamato Zerial oggi scopro che si dice Zerial e quindi questo dice anche dello stile che Marino Zerial porta avanti nella vita grazie mille grazie a Massimo Sideri non mi sono mai offeso che siamo multifunzionali quindi interpretiamo il mondo in modo diverso prima di tutto vorrei estendere i miei ringraziamenti al Ministro Schillacci al Ministero della Salute che ci ospita in questo evento bellissimo al Ministro Bernini al Ministro Giorgetti al Dottoressa Panucci che ha fatto un bellissimo discorso troppo buona al personale dei gabinetti ministeriali ai magnifici rettori ai docenti agli scienziati della comunità scientifica nazionale e tante persone che sono collegate in remoto e che testimoniano l'interesse e anche le aspettative di Human Technopole a questo punto vorrei presentarvi con la prima diapositiva il piano strategico 2024-2028 di Human Technopole e questo piano si articola su quattro obiettivi la ricerca di Human Technopole e cercherò di raccontarvela un po' in maniera molto sintetica il piano strategico in realtà anche il documento che potete vedere è una sintesi in realtà ci sono state tantissime persone che ci hanno lavorato e hanno contribuito alla sua stesura quindi la ricerca di Human Technopole e la visione di Human Technopole per il futuro le infrastrutture per la ricerca infrastrutture condivise e questo è un momento secondo me bellissimo perché significa che Human Technopole mette a disposizione queste infrastrutture non soltanto per i suoi ricercatori ma per la comunità scientifica nazionale poi la formazione scientifica avanzata come ha detto il Presidente Verona si tratta anche di formare le generazioni di ricercatori future e quindi poi anche il quarto obiettivo è quello di far leva sulle scoperte scientifiche per creare anche benessere economico ma non soltanto benessere economico trasformarli in prodotti che possono aiutare la salute umana e quindi questo richiede un trasferimento tecnologico cominciando con il primo obiettivo la ricerca di HT e la visione per il futuro allora vi mostro questi cinque sistemi biologici di complessità crescente alcuni batteri esce ricchi a coli batteri molto comune cellule un esempio di tessuto in questo caso il fegato un esempio di un organo in questo caso il cervello e poi un organismo sono sistemi molto diversi in realtà hanno qualcosa in comune e sono le proprietà emergenti cose sono le proprietà emergenti le proprietà emergenti questa è una definizione che deriva dalla fisica permettono a componenti semplici che hanno delle funzioni diciamo limitate interagendo di creare qualcosa di molto più complesso delle unità quindi qualcosa che è superiore alla somma delle parti e vi mostro come esempio uno stormo di uccelli perché uno stormo di uccelli? è una metafora in realtà è una metafora in realtà è un'applicazione delle proprietà emergenti gli uccelli formano uno stormo perché perché lo formano perché devono difendersi dai predatori ma lo formano in modo che un uccello ha come riferimento gli altri uccelli vicini e questo porta a propagare queste proprietà di interazione a tutto lo stormo e quindi dà le possibilità allo stormo di uccelli di fare qualcosa di molto più complesso di quello che possa essere fatto da uno stormo da un uccello singolo uso invece un altro esempio questo come vedete il video vi mostra lo sviluppo embrionale agli inizi in questo caso non sono gli uccelli ma sono delle cellule le nostre cellule che interagiscono e quindi secondo una coreografia ben stabilita tramite le proprietà emergenti daranno origine ai tessuti agli organi e quindi alla fine all'organismo intero attraverso queste interazioni che sono interazioni molto specifiche questi sono due esempi di proprietà emergenti e sono veramente alla base della nostra vita e quindi sono le proprietà che noi dobbiamo studiare e ovviamente a questo punto non posso non omaggiare il nostro grande scienziato Giorgio Parisi il fisico che ha dato dei contributi fondamentali che ha ricevuto il nome per la fisica nel 2021 e che ha dato dei contributi essenziali proprio nello studio sul studio dei sistemi complessi e quindi le proprietà emergenti se quindi le proprietà emergenti permettono ai componenti di interagire possono formare strutture mano a mano sempre più complesse quindi le molecole come vedete in questa in questa figura creano complessi di molecole creano gli organelli della cellula le cellule creano la cellula le cellule creano i tessuti i tessuti formano gli organi gli organi formano un organismo tanti organismi insieme formano un popolazione di individui questo avviene quindi questa complessità avviene si scala nello spazio ma si scala anche nel tempo i sistemi biologici non sono un equilibrio quindi possono anche evolvere e quindi questo significa che le proprietà emergenti si propagano nelle scale e danno vita evidentemente a strutture come vedete sempre più complesse se noi pensiamo quindi che le proprietà emergenti siano importanti per i processi biologici bisogna evidentemente trovare il modo di studiarle il modo classico che è stato usato è stato quello di introdurre delle perturbazioni fare per esempio delle mutazioni e vedere le conseguenze di queste mutazioni noi abbiamo anche facciamo questo ma abbiamo con una visione diversa nel senso che usiamo le patologie anche come un tipo di perturbazione quindi impariamo dalle patologie quindi l'equilibrio tra fisiologia e patologia ci permette quindi di andare in dettaglio e capire i meccanismi e perché questi meccanismi originano quindi queste patologie quindi questo è il focus di ricerca di Human Tecropo la salute umana è un focus dettato dal statuto ma è un focus che noi abbracciamo sosteniamo e vogliamo interpretare con la ricerca multiscala che vi ho spiegato le discipline per poter condurre questa ricerca multiscala sono diverse e nel caso di Human Tecropo ci sono diverse aree di ricerca che formano o strutturate in centri di ricerca questo è il lavoro del mio predecessore il professor Yamatai che ha aiutato Human Tecropo praticamente alla sua nascita allora vorrei condurvi attraverso queste aree differenti e spiegarvi un po' quello che fanno uno di queste molto importante è la genomica il centro di ricerca per la genomica comprende due programmi di ricerca complementari quindi si tratta di studiare il genoma quindi sequenziare il DNA capire il libro che poi una volta tradotto permette a dare origine a noi come organismi e studiarlo quindi dal punto di vista della popolazione genomica medica che studia quindi come le informazioni genetiche ereditabili alla fine poi si implementano e diventano tratti fenotipici ma anche patologie e il programma di genomica funzionale che mira a identificare i meccanismi che portano all'espressione del genoma quindi come il genoma si traduce poi nelle cellule nei tessuti negli organi e nel nostro organismo la seconda area è la neurogenomica qui vedete nella diapositiva vedete un pezzo di DNA le istruzioni del genoma vengono implementate e si formano le cellule del cervello per esempio i neuroni e i neuroni insieme ad altre cellule formano l'organo quindi il centro di ricerca per la neurogenomica studia i meccanismi che sono poi responsabili di malattie neuropsicatriche e neurologiche il terzo centro è il centro di biologia strutturale questa immagine che vedete vi mostra in realtà secondo me è qualcosa veramente di straordinario uscire a vedere i prodotti praticamente del genoma a livello di struttura con una risoluzione a livello atomico quello che vedete è una quello che si chiama una polimerasi è un complesso di 21 proteine diverse che quindi ancora una volta il sistema emergente tante proteine insieme formano un complesso e questa è una nanomacchina è formidabile la biologia riuscire a fare dei piccoli motori o dei piccoli macchine di costruzione con delle molecole questo serve a tradurre l'informazione del genoma in quello che si chiama RNA messaggero e fare poi alla fine prodotti come le proteine eccetera o altri prodotti cellulari che quindi implementano l'azione del genoma la quarta area è la biologia computazionale perché abbiamo bisogno di biologia computazionale con tutto quello che vediamo a livello di artificial intelligence lo capiamo benissimo si tratta quindi di dar valore ai dati sperimentali e di produrre tramite approcci di matematica di fisica anche e di scienze computazionali modelli che possono spiegare o predire le attività di certi meccanismi biologici come per esempio anche la capacità di identificare alcune predisposizioni a malattie oppure addirittura trovare il metodo per esempio per trovare dei possibili agenti terapeutici l'ultima area è la health data science è la scienza dei dati clinici questa è veramente una scienza importantissima dal punto di vista pratica mette insieme i dati clinici dei pazienti con le analisi molecolari le omiche per esempio tutti per esempio i test sanguigni che facciamo sono informazioni quindi messe insieme permettono alla fine di comprendere i meccanismi delle malattie diagnosticarli e poter al limite anche produrre degli approcci a livello terapeutico quindi queste sono le varie aree di ricerca di Human Technopole ma messe così singolarmente in realtà molti di voi diranno ma facciamo anche noi le stesse cose Human Technopole vuole inserire queste aree di ricerca in un contesto molto più complesso riuscire a fare la ricerca a livello di multiscala come vi ho detto prima quindi se noi identifichiamo le capacità di queste aree di contribuire alla ricerca multiscala vedete che effettivamente Human Technopole con le varie aree di genomica di biologia strutturale biologia computazionale eccetera riesce effettivamente a fare ricerca dalla scala molecolare alla scala delle popolazioni di individui questo dovete pensare per un istituto relativamente piccolo come Human Technopole è qualcosa veramente di eccezionale qualcosa che è riservato a università e a tenei molto più grandi di quello di un singolo istituto ma non siamo ancora contenti di quello che abbiamo pensiamo che dobbiamo apportare delle aggiunte e queste aggiunte sono delle aree di competenza che ci permetteranno di fare della ricerca multiscala in maniera più efficiente vogliamo portare per esempio questo è il mio campo la biologia cellulare molecolare quindi la capacità di studiare il core e il focus e la cellula in questo caso e vedere come i meccanismi a livello molecolare si implementano a livello cellulare la seconda area sarà la modellizzazione simulazione biofisica qui in questo in questo diagramma vi mostro in realtà una simulazione di tipo biofisico dei flussi di sangue e di in questo caso di bile nel fegato ed è quindi un approccio che permette di capire anche di introdurre elementi di fisica per capire la fisiologia umana e anche la patologia umana con queste due aree riusciremo quindi a rafforzare la capacità di Human Technopole di studiare con approcci di ricerca multiscala i meccanismi biologici umani a questo punto possiamo identificare cinque programmi di ricerca che chiamiamo flagship research programs che sono dei programmi di elezione dove Human Technopole può essere estremamente competitiva non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale per attaccare questi problemi a delle patologie umane sono le malattie cardiometaboliche le malattie metaboliche l'immunogenomica il cancro le infezioni le malattie del sistema del sistema neurologico quindi del neurosviluppo e le malattie neuropsichiatriche e le ciliopatie che sono delle malattie in realtà in realtà non sempre capite comprese che in realtà sono delle malattie molto diverse che hanno a che fare con un organello della cellula che ha delle disfunzioni allora perché ci interessano questi programmi di ricerca flagship perché in questo modo possiamo quindi canalizzare gli sforzi della ricerca di Human Technopole verso la soluzione di questi problemi che sono i problemi di risolvere delle malattie delle patologie quindi in questo caso abbiamo delle competenze a livello molecolare cominciamo a capire per esempio perché a livello molecolare ci sono delle disfunzioni le proteine i lipidi eccetera possiamo poi guardarle a livello di implementazione negli organelli della cellula per esempio i mitocondri che sono le centrali energetiche della cellula oppure gli isosomi che sono gli inceneritori della cellula questo permette quindi di vedere come i difetti a livello molecolare si traducono in difetti a livello di organelli della cellula e quindi poi a livello di cellule le cellule del tessuto per esempio i cardiomiociti che sono le cellule muscolari del cuore poi evidentemente guardare dove sono i difetti a livello di strutture del cuore nei tessuti quindi per esempio nelle valvole cardiache oppure nel miocardio e poi andare evidentemente a correlarli con i difetti a livello dell'organo il cuore la capacità del cuore di pompare o il mescolamento del sangue nei casi di difetti delle valvole ovviamente avere accesso poi ai dati di pazienti quindi andare a livello dell'organismo e quindi a popolazioni e quindi ci serve la collaborazione come potete vedere anche del mondo clinico e biomedico italiano perché significa che Human Technopo deve far riferimento per questi programmi a delle collaborazioni con la comunità scientifica nazionale questa vi ho mostrato una direzione dalle molecole alle popolazioni ma è vero il contrario possiamo avere dell'informazione a livello di dati clinici e poi andare a livello molecolare per cercare di spiegarle quindi questo funziona nelle due direzioni è molto importante che non si pensi soltanto che le informazioni vanno soltanto a livello dalla molecola al paziente in realtà impariamo come vi ho detto prima dal confronto tra la fisiologia e la patologia allora quali sono mi direte i vantaggi di un flagship research program il fatto di porsi come obiettivi non soltanto fare della genomica oppure della verologia di struttura ma di porsi come obiettivi la risoluzione del problema delle malattie cardiometaboliche significa che abbiamo un focus biomedico clinico molto preciso ma questo dà la libertà di espressione ai gruppi che possono continuare la propria ricerca eccetto che hanno in questo caso l'opportunità di applicare quello che fanno per il loro interesse scientifico alla risoluzione di questo problema quindi noi non forzeremo nessuno all'interno di Human Technology daremo però l'opportunità se ci sono delle possibilità di lavorare su dei sistemi diciamo a livello biomedico di farlo poi ovviamente questo sistema permette di stabilire degli obiettivi chiari e quindi di portare all'interno dell'istituto competenze che in questo momento non ci sono e quindi aumenta il livello di ambizione della ricerca dell'istituto permette anche di identificare delle lacune sia intellettuali tecnologiche e di competenze che possono quindi essere portate all'interno dell'istituto per rafforzare quindi i programmi di ricerca e alla fine permettono effettivamente di fare quella ricerca indisciplinare che il presidente Gian Mario Merona vi vi presentava prima e cioè di superare i confini tra le aree di ricerca classiche quelle che permettono di fare diciamo degli studi molto mirati ma che perdono di vista la possibilità di passare da una disciplina un'altra e quindi permette quindi di supportare l'interdisciplinarità della ricerca tramite anche attraverso collaborazione quindi la ricerca interdisciplinare di Human Technopole è una scelta ed è una scelta che permette un approccio olistico allo studio dei meccanismi biologici in particolare delle patologie umane ed è importante che queste conoscenze e tecnologie che sono veramente all'avanguardia siano presenti sotto lo stesso tetto perché bisogna per lavorare insieme bisogna effettivamente stare insieme bisogna conoscerci non è ovvio che una persona che è competente in genomica possa parlare con un biologo cellulare ci sono effettivamente delle barriere intellettuali da superare e quindi la vicinanza geografica che il Presidente parlava prima ma estremamente importante quindi queste conoscenze devono essere sotto lo stesso tetto a questo punto vi ho presentato un po' gli obiettivi strategici generali Human Technopole della ricerca e adesso passiamo a parlare di infrastrutture e di ricerca condivisa la bellezza vi ho detto Human Technopole è che questi programmi di ricerca sono supportati dalle tecnologie che sono straordinarie e queste tecnologie vengono messe a disposizione non soltanto per i ricercatori di Human Technopole ma per la comunità scientifica nazionale quindi sono le piattaforme nazionali di Human Technopole allora qual è la missione e gli obiettivi primo avete sentito prima è fornire nuovi strumenti e tecnologie alla comunità scientifica italiana la missione è quella di aumentare il livello di eccellenza della ricerca italiana ci sono delle potenzialità molto buone il problema è quello di avere accesso a tecnologie che possono supportare le idee dei ricercatori in Italia sviluppare nuove tecnologie e metodi non ci contentiamo delle tecnologie che abbiamo a disposizione vogliamo svilupparne altre vogliamo essere a livello tecnologico all'avanguardia a livello internazionale quindi per far funzionare questo sistema ci serve un'apertura essere aperti a collaborazioni con gli utenti e anche con l'industria ci serve ovviamente fare formazione di alta qualità per i ricercatori italiani questa è un'altra missione delle piattaforme e poi collaborazioni con forniture e l'industria per promuovere il trasferimento tecnologico che è effettivamente una delle missioni e anche una delle grandi sfide in Italia allora la realizzazione delle piattaforme nazionali non viene a caso e viene perché c'è stata una consultazione a livello nazionale in poche parole si è chiesto alla comunità scientifica a voi quali sono i vostri bisogni a livello tecnologico ci sono state due consultazioni con 167 stakeholders che sono stati invitati a esprimersi e poi una consultazione con tutta la comunità scientifica nazionale è stato un bellissimo in realtà esperimento perché ha portato a identificare dei domini che sono dei domini particolarmente critici per la ricerca in Italia che sono le omiche la gestione e analisi dei dati vedete non è soltanto importante ottenere i dati bisogna anche analizzarli i dati bisogna capirli e poi le imaging sono delle possibilità straordinarie oggi e questo ha portato alla formazione delle 5 piattaforme nazionali che il Presidente Verona vi ha anticipato prima ve le presento in maniera molto veloce perché questo pomeriggio i responsabili di piattaforma vi racconteranno molto di più quello che le piattaforme possono offrire la piattaforma di genomica ha come responsabile la dottoressa Clelia Peano come esperto di queste tecnologie e mette a disposizione tutte le tecnologie della genomica sequenziamento ovviamente di DNA di RNA single cell omiche insomma tante bellissime tecnologie per capire come il genoma il genoma tra l'altro non soltanto di sistemi sperimentali ma il genoma di pazienti cosa contiene e come cos'è le sequenze ma anche come si implementano queste sequenze a livello funzionale poi c'è la piattaforma nazionale di editing genomico e modelli di malattia questa è diretta dal dottor Giovanni Fagà e dà la possibilità quindi di creare modelli sperimentali in due dimensioni in tre dimensioni usando anche cellule staminali per riprodurre nella piastra Petri un meccanismo biologico o una patologia abbiamo poi la piattaforma nazionale microscopia ottica diretta da Nicola Maghelli questa è una piattaforma che alcuni di voi potremmo considerare insomma una cosa che abbiamo lo stesso in vari istituti in realtà la piattaforma è molto sofisticata e sentirete più tardi da Nicola Maghelli il perché ci sono bisogno di tecnologie diverse all'interno della stessa piattaforma non è possibile fare uno studio con un tipo di microscopio bisogna usarne tanti di microscopi diversi per lo stesso progetto sono necessarie tecnologie diverse quindi Nicola vi racconterà delle tecnologie messe a disposizione da Human Technopole come vi ho detto prima i dati da soli non parlano devono essere analizzati devono essere quantificati devono essere interpretati e questo è il compito della piattaforma nazionale per la gestione e analisi dei dati diretta da Alberto Riva che è anche un cervello di rientro l'abbiamo strappato agli Stati Uniti dove dirige una piattaforma assiduita in Florida quindi vi dimostra anche la competitività di Human Technopole e infine la piattaforma di biologia strutturale vi avevo mostrato prima l'immagine della nanomacchina sono delle nanomachines piccole delle quali bisogna sapere i dettagli perché the devil is in the detail quindi qui bisogna arrivare a livello atomico Paolo Sweck vi racconterà più tardi il come cosa può fare la piattaforma nazionale di biologia strutturale che ha delle strumentazioni bellissime estremamente performanti quindi non è una serie di piattaforme è una pipeline di piattaforme è una filiera di piattaforme perché ci serve una filiera di piattaforme perché i progetti di ricerca sono complessi se vogliamo veramente fare come vi ho detto della ricerca multiscala dobbiamo veramente lavorare a più livelli quindi la genomica identifica diciamo le mutazioni genetiche per una determinata patologia a questo punto la formazione di modelli sperimentali tipo i modelli staminali o modelli di organoidi cioè modelli di tessuto artificiale in vitro permettono quindi con la riprogrammazione genomica di sviluppare modelli sperimentali di malattie che possono essere studiati in vitro ovviamente non si possono fare esperimenti sugli esseri viventi però si possono fare su cellule derivate dall'uomo e quindi studiare come questi difetti poi alla fine sono difetti che succedono poi nell'organismo con la microscopia ottica come ho detto prima abbiamo la possibilità poi di fare l'imaging di queste cellule e vederne poi per esempio i dettagli a livello subcellulare e poi evidentemente con la piattaforma di analisi possiamo analizzare questi dati e vedere come questi difetti si implementano ma in maniera molto quantitativa perché c'è bisogno di software per poter restare queste informazioni e per ultimo una volta che riusciamo a stabilire i diciamo i difetti diciamo macroscopici possiamo andare a dei dettagli e capire la struttura quindi l'analisi strutturale dei componenti che studiamo questa quindi è la filiera di tecnologie messa a disposizione di Human Technology per la comunità scientifica a questo punto siccome le piattaforme non sono nate dal nulla vorrei ringraziare quelli si chiamano i Head of Research Centers i direttori dei centri di ricerca di Human Technopole che hanno contribuito allo sviluppo di quelle piattaforme che hanno incubato le piattaforme nei loro centri di ricerca molti di loro sono qui quindi vi invito a conoscerli il fatto che siamo venuti in realtà in gran numero di Human Technopole testimonia il fatto che veramente crediamo nel processo di Human Technopole e vogliamo anche dimostrarvelo di persona a questo punto però se le piattaforme sono piattaforme nazionali dobbiamo separarle dai centri di ricerca quindi renderle neutrali e quindi questo è quello che è stato fatto e le piattaforme quindi i centri di ricerca e i gruppi e i gruppi dei centri sono degli utenti degli utenti come gli altri degli utenti come voi che non lavorate a Human Technopole quindi ogni gruppo di ricerca può accedere alle piattaforme perché la gestione delle piattaforme da parte dei responsabili di piattaforme è una gestione che è stata separata da quella dei ricercatori i ricercatori diventano utenti bisogna ringraziare tutti i head of resource center che hanno lavorato per questo e che hanno condiviso questo modello io come vedete sono lì on top perché sono il garante di questa struttura mi sento di proteggere queste strutture in modo da essere sicuro che vi daranno le funzioni di cui avete bisogno ci sarà anche un coordinatore di ricerche di piattaforma e non ci sarà una separazione completa tra piattaforme e ricercatori perché c'è bisogno dell'apporto dei ricercatori quindi i ricercatori interni e esterni formeranno in questo modello degli advisory board per poter dare informazioni ai responsabili di piattaforma se la piattaforma sta funzionando se manca qualcosa se ci sono delle tecnologie da introdurre e così via quindi ci sarà una simbiosi tra gli utenti e le piattaforme questo vale evidentemente anche per la comunità scientifica nazionale a questo punto bisogna pensare che le piattaforme non daranno semplicemente delle funzioni diciamo come il modello amazon in cui uno compra una cosa e la riceve le piattaforme dovremmo configurare alcuni protocolli e tecnologie per la conduzione di progetti di ricerca che sono specifici quindi deve esserci anche un'innovazione tecnologica anche perché dobbiamo stare al passo a quei tempi e forse anzi sono sicuro saremo anche noi a innovare le tecnologie a Human Technopole usando la comunità nazionale e quindi le unità avranno anche dei budget dedicati allo sviluppo tecnologico ci saranno interazioni con i gruppi di ricerca di Human Technopole e gli utenti esterni voi che quindi ci permetteranno alle piattaforme anche di importare tecnologie ci saranno delle collaborazioni con i ricercatori e coloro che hanno sviluppato una determinata tecnologia saranno incentivati a implementarla nella piattaforma in modo che non vada persa non soltanto ma che sia effettivamente utilizzata dalla comunità scientifica generale più estesa quindi e vorrei rassicurarvi sul fatto che le piattaforme nazionali non si metteranno a fare ricerca per conto loro faranno della ricerca mirata allo sviluppo di tecnologie che servono alla comunità scientifica buona notizia è che il primo bando è aperto da oggi e quindi è siamo quindi nella fase di start up è una fase attenzione che porterà all'inizio delle attività delle piattaforme e lo porteranno in maniera graduale aumentarle con un meccanismo che vi spiegherò fra un poco e che porterà probabilmente nei prossimi anni al piena saturazione della capacità produttiva quindi siamo molto confident che siamo in grado di anche aggiustare la nostra capacità di crescita e questo mi porta a sottolineare qual è il modello delle piattaforme condivise il modello delle piattaforme condivise è un modello che viene usato in realtà in tanti istituti per il mondo immaginate che voi abbiate le risorse per comprarvi uno strumento molto costoso e particolare siete in un'università siete in un altro istituto lo usate siete finanziati e ve lo tenete ovviamente la capacità dello strumento dipenderà dal numero degli utenti se lo tenete evidentemente sotto controllo di solito questa capacità non va a saturazione se non c'è una struttura che permette la condivisione di solito non riesce la strumentazione non riesce ad essere usata al massimo della capacità ebbene le strutture le piattaforme condivise permettono questo riuscire ad aumentare la capacità delle piattaforme ad arrivare praticamente a coprire anche la parte che di solito non viene utilizzata e come possiamo espandere le piattaforme quindi deve essere un sistema per mettere insieme capacità e domanda e quindi abbiamo introdotto in Human Technopole un sistema di quello si chiama rendicontazione praticamente un calcolo dei costi quindi attraverso questo calcolo dei costi che è implementato dall'amministrazione di Human Technopole ci permette quindi di calcolare quali sono i costi di ogni progetto quindi questo è il meccanismo per capire come la capacità può essere aggiustata rispetto alla domanda quindi a questo punto con questo meccanismo crescita e sviluppo strategico delle piattaforme sono regolati meglio c'è una pianificazione consapevole ci sono degli investimenti mirati e c'è una condivisione delle risorse non soltanto con la comunità scientifica di Human Technopole ma con la comunità nazionale quindi con tanti istituti quindi un sistema che permette quindi di controllare la produttività delle piattaforme e di aggiustarla secondo i bisogni della 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 comunità scientifica e la dottoressa Trovesi che è la nuova chief of administration a Human Technopole ha l'esperienza per introdurre questo sistema di rendicontazione quindi siamo molto felici di farlo funzionare terzo punto è la formazione scientifica avanzata evidentemente anche le piattaforme nazionali che sono dei dei punti focali per le tecnologie permettono anche training e il training quindi la formazione è una formazione sia interna che esterna gli scienziati di Human Technopole ed è una formazione della quale beneficeranno in maniera complementare con quella la formazione delle università degli istituti di ricerca studenti universitari laureati dottorandi postdoc group leader staff e core facility quindi personale tecnico di vari facility sarà possibile attraverso la formazione quindi l'accesso alle piattaforme nazionali che quindi faranno anche daranno anche una funzione di formazione e attraverso degli eventi che sono dei corsi delle conferenze di workshop dei simposi e a tale proposito siccome parliamo di formazione vorrei citare il fatto che uno dei senior group leader dell'istituto Florian Hugg che è nella research center di computazionale ha organizzato con successo un corso di formazione che si chiama Deep Learning for Microscopy Image Analysis sponsorizzato dall'EMBO e l'EMBO come sapete è un'organizzazione prestigiosa quindi questo è un corso internazionale è il primo corso internazionale Florian Hugg è seduto la riceve le congratulazioni del suo collega e ha permesso quindi a 24 scienziati internazionali di beneficiare di diverse nazionalità di beneficiare di questo corso di formazione sono stati 23 speakers questo semplicemente per dirvi che Human Technology potrà aprirsi con le piattaforme nazionali e con la scienza dei ricercatori per mostrare un po' anche quello che sa fare l'Italia dal punto di vista di progresso di sviluppo tecnologico quest'area tra l'altro l'analisi di immagini microscopio è un'area molto poco sviluppata in cui mi sento di dire Human Technology è uno veramente dei players a livello internazionale come potete vedere da questo workshop e quindi è anche una dimostrazione del fatto che siamo competitivi e vogliamo che Human Technology sia visibile a livello internazionale e giustamente i corsi di formazione sono uno degli strumenti per farlo per ultimo vorrei coprire il trasferimento tecnologico è ovvio che lavorando su problemi che hanno a che fare con la salute pubblica noi siamo in grado di generare opportunità anche di applicazioni quindi opportunità per sviluppare medicinali nuovi diagnostica anche dispositivi medici non li costruiamo noi ma contribuiamo con i nostri partner a formarli e servizi digitali tutta la parte computalizzata permette per esempio di digitalizzare le informazioni e di produrre quindi dei software che possono essere usati sia per l'applicazione a livello di ricerca sia anche come vi ho detto prima per la modellizzazione delle patologie e quindi aiutare a quello che è il Holy Grail il sacro calice cioè la medicina di precisione è ovvio oggi che terapie che fanno tutto non sono molto raramente sono disponibili e quindi bisogna pensare alla medicina personalizzata quindi c'è il processo di trasferimento tecnologico non è affatto semplice è un challenge per tutti i paesi specialmente direi a livello europeo si tratta di portare della scoperta tramite la proprietà intellettuale che viene licenziata o fare delle nuove start up oppure a portare delle licenze già ad aziende che sono consolidate si tratta di fare tutto questo processo a questo punto ancora una volta mi sento di dire che le piattaforme nazionali possono supportare forse anche un giorno se una volta che avremmo dimostrato il successo del modello potremmo pensare ad aprire di più le piattaforme nazionali le piattaforme nazionali anche al trasferimento tecnologico quindi magari dare supporto alle piccole start up o anche fare collaborazione con l'industria perché queste sono competenze che non sempre dovete immaginare non sempre le industrie farmaceutiche possono permettersi di avere parlo veramente delle tecnologie messe a disposizione da Human Technopole e quindi questo aiuterà quindi a tramite un forte ufficio di trasferimento tecnologico a Human Technopole permetterà di catalizzare questo processo e ovviamente questo contribuirà anche all'attività del centro per l'innovazione e il trasformamento tecnologico il CIT che è una missione di supporto al trasformamento tecnologico a livello nazionale quindi questi sono stati i punti del piano strategico che vi ho così raccontato in poche parole in realtà è molto più complesso ma vorrei tornare al concetto del presidente e cioè l'open innovation delle scienze della vita per noi è fondamentale aprirsi Human Technopole si deve aprire perché avete visto con una ricerca multiscala ambiziosa con tante tecnologie i nostri partner di collaborazione delle università dei medici i clinici gli istituti sono dei partner essenziali perché non possiamo fare tutto quindi dobbiamo farlo in maniera programmata aprendoci e farlo tramite collaborazioni quindi proponiamo un ruolo di Human Technopole e delle piattaforme nazionali veramente di open innovation quindi portare dentro tecnologie ma anche dare tecnologie alla comunità scientifica e quindi fare dei progetti insieme che possano risolvere problemi molto complessi le proprietà emergenti sono difficilissime da studiare quindi questa secondo me è la grande sfida di Human Technopole per poter creare una simbiosi un humus scientifico con la comunità scientifica delle scienze della vita in modo da progredire in maniera più coordinata più efficace e anche divertendoci perché nella mentalità italiana lavorare insieme ci piace e quindi abbiamo soddisfazione a farlo per ultimo vorrei riassumere il contributo quello che può essere il contributo di Human Technopole la strategia nazionale quindi creare dei partenariati strategici tra le istituzioni italiane nelle aree di Omica della salute e per lo studio delle malattie predire le malattie con strumenti mirati alla popolazione italiana usare ovviamente tecniche diverse quindi l'intelligenza artificiale e la scoperta evidentemente anche la valutazione di nuovi bersagli terapeuti non dimenticatevi che una volta che si capiscono quali sono i geni per esempio che correranno con una malattia a questo punto il lavoro diventa più mirato quindi è molto importante questa prima fase e quindi anche contribuire alla crescita dell'indotto industriale perché si parla di lavorare insieme alla comunità scientifica ma anche creare evidentemente valore che può ritornare poi per creare trasferimento tecnologico e quindi aiutare l'indotto industriale anche nel campo delle scienze della vita che non deve essere visto come un peso ma con un'enorme opportunità dove l'Italia non può assolutamente star fuori e con questo vi ringrazio grazie a Marino Zerial direttore dello Human Technopole che ritroveremo tra un po' per le modalità di accesso a queste piattaforme nazionali voglio evidenziare solo che Marino Zerial da scienziato ha iniziato parlando di benessere economico e ha concluso parlando di contribuire all'indotto industriale questo è un elemento fondamentale perché gli investimenti in ricerca scientifica sono un meccanismo di creazione di occupazione di crescita economica sono un meccanismo per creare anche le industrie del futuro e questo elemento questa relazione non sempre è stata chiarissima in Italia mentre molto chiara in altre economie in altri paesi allora do la parola adesso a Walter Ricciardi presidente del comitato scientifico dello Human Technopole grazie grazie anche a me fa piacere sottolineare l'importanza di questo momento di condivisione e se posso avere la diapositiva sottolineare il ruolo che ha avuto il comitato scientifico in questo contesto un ruolo che tradizionalmente va al di là diciamo dell'aspetto semplicemente di advisorship perché su richiesta del presidente del direttore abbiamo partecipato attivamente nel supportare i vertici di questo istituto nella programmazione strategica non vedo la slide chiediamo un supporto ecco ecco qua e vi dicevo di un comitato scientifico di straordinaria rilevanza che ha diciamo partecipato attivamente e con il supporto di un insostituibile team costituito da Anna Moles direttrice dell'istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR che ringraziamo del consigliere Callea e di Giuliana Ianni per la parte amministrativa noi abbiamo fortemente supportato l'elaborazione del piano strategico per riferimento e con riferimento alle cose dette dal direttore in particolar modo sottolineando il valore nel piano attribuito alla ricerca interdisciplinare appunto alle infrastrutture avanzate alle piattaforme nazionali all'enfasi sulle collaborazioni sia interne che esterne e all'approccio su cui concluderò sull'open science i vantaggi noi li abbiamo rilevati li abbiamo portati li abbiamo condivisi di un'infrastruttura condivisa derivano dall'esperienza internazionale che ormai ha fornito anche degli indicatori quantitativi di assoluta evidenza su quanto questo funzioni per esempio funziona a proposito della riduzione della frammentazione e dell'evitare duplicazioni per sfruttare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca in modo efficiente dal punto di vista dei costi e sapete che in un contesto di risorse finite risorse finite devono essere utilizzate al meglio soprattutto se sono pubbliche di supportare l'eccellenza e promuovere la ricerca per affrontare le sfide della società tutti gli storici gli economisti i sociologi sono unanimi nel dire che non c'è mai stata nella storia dell'umanità un periodo così denso e così complesso di crisi crisi che si sovrappongono si intrecciano l'una con l'altra e che soltanto un approccio sistemico e organizzato peraltro globale possono pensare di far affrontare e l'impatto è positivo anche proprio dal punto di vista degli indicatori che sono di consuetudine valutati per la ricerca come ha dimostrato l'analisi per esempio fatta dall'EMBL la produzione scientifica viene veramente rilanciata a volte con questo approccio del 40 del 50% cioè chi fa questo tipo di approccio pubblica di più e pubblica e pubblica meglio l'impatto è oltretutto positivo sulla capacità di acquisire finanziamenti perché si fa squadra per accedere a finanziamenti anche in questo caso la cui acquisizione è sempre più complessa alla costruzione di reti internazionali al miglioramento della reputazione scientifica e anche all'attrazione di capitale umano che oggi è la cosa più importante su cui tutti oggi competono al mondo per attrarre studenti e scienziati di alto livello e qui il problema per l'Italia si fa serio come stiamo sperimentando nella difficoltà di reclutare per esempio per specializzazione dottoranti di ricerca e postdoc con gli stipendi ridicoli che noi offriamo a questi giovani le piattaforme nazionali hanno anche lo scopo hanno anche soprattutto lo scopo di garantire che tutti i ricercatori in Italia indipendentemente dalla loro affiliazione dalla loro situazione geografica dal loro stadio di carriera dalle loro attrezzature personali abbiano accesso ad apparecchiature che sono all'avanguardia che sono probabilmente tra i migliori anzi sicuramente tra i migliori al mondo che abbiano accesso a competenze e conoscenze avanzate ne abbiamo sentite appena adesso da parte del direttore abbiano l'opportunità di collaborare a progetti congiunti che includano gli sviluppatori di tecnologie e i benefici economici lo sappiamo verranno perché la condivisione di risorse riduce i costi del personale delle apparecchiature rispetto a laboratori singoli che peraltro molte strutture italiane non si possono permettere proprio per le dimensioni limitate da un punto di vista quantitativo le grandi strumentazioni spesso hanno capacità anche per organizzazioni importanti come io con le altre che vi ho citato a livello internazionale tant'è vero che anche le altre lo fanno che cedono la domanda dei singoli gruppi di ricerca di istituti va a merito del direttore dei dirigenti di ricerca quello di aver supportato l'evoluzione in questo senso e se gestite con un meccanismo di responsabilizzazione dei costi le dimensioni delle infrastrutture possono essere direttamente collegate alla domanda della comunità a cui sono destinati in sostanza un approccio di efficacia di efficienza e anche ripeto in tempi di crisi economica di costo utilità la specializzazione è un altro aspetto molto importante perché le tecnologie sono avanzate costantemente aggiornate e ampliate nel tempo sappiamo quanto l'evoluzione sia tumultuosa in alcuni di questi settori soprattutto dal punto di vista tecnologico nessuno ci riesce a stare appresso con un lavoro di squadra lo si può fare e anche e soprattutto con la consulenza di personale esperto e qualificato questo naturalmente può consentire il miglioramento della qualità della ricerca con uno staff formato specificamente su tecnologie mentre i ricercatori si concentrano sulle proprie richieste sulle proprie ricerche sulle proprie priorità infine il supporto alla conoscenza al condivise e alla collaborazione provvedono alla formazione altamente specializzata su tecnologie avanzate sulle relative applicazioni facilitano la collaborazione stretta tra ricercatori di differenti ambiti ed istituzioni che le ospitano e facilitano lo sviluppo di tecnologie in collaborazione con i fornitori delle tecnologie stesse c'è stata una tempistica abbiamo lavorato veramente tanto in questo periodo partendo ovviamente dal 2020 quando è stata fatta la firma della convenzione faccio parte e ce ne sono diversi in aula di questo gruppo di veterani che ha seguito questo progetto sin dalla sua concezione la firma della convenzione ha portato poi a una consultazione di primo livello seguita una consultazione di secondo livello che ha mobilitato veramente la comunità nazionale e va ancora dato atto a Elena Cattaneo di essere stata champion su questo perché ricordo ancora una riunione che facemmo con lei in cui si prospettavano queste cose alla presidenza del Consiglio dei Ministri la relazione finale del comitato tecnico è avvenuta nel settembre del 2022 dal febbraio a maggio 2022 c'è stato il piano per l'approvazione della implementazione la freselezione è stata fatta nel giugno 2023 per la selezione dei membri dello stand di committi per la valutazione dello stand di committi indipendente per la valutazione che è stato poi elaborato e abbiamo eletto all'unanimità come presidente il professor Mancio della Columbia University come vicepresidente della professoressa Tucci della Queen Mary ma vedete una enorme quantità di esperienza il professor Mancio in particolar modo maturata proprio in questo senso all'NIH degli Stati Uniti che cosa ha fatto questa commissione ha definito l'access management plan che verrà aggiornato annualmente che include le procedure di selezione per l'accesso della comunità scientifica nazionale alle piattaforme nazionali di cui vi parlerà tra poco il direttore ha esercitato un'attività di valutazione e di approvazione delle richieste di accesso e lo farà ovviamente per quelle future dopo averlo fatto per una pilota attraverso le open calls e preparerà il rapporto annuale sull'attività delle piattaforme nazionali per l'invio ai ministeri fondatori anche in questo caso questa è la tempistica noi abbiamo fatto un incontro introduttivo l'8 febbraio abbiamo fatto la nomina il 20 febbraio abbiamo visitato in realtà il professor Mancio io l'avevo già fatto precedentemente le piattaforme nazionali in maniera diretta con una e vi assicuro ve lo consiglio a tutti un esame obiettivo diretto di Human Technology che è sempre sorprendente in senso positivo e poi partendo a marzo con i gruppi di lavoro con la preparazione a fine marzo del call for access con la scelta dei revisori esterni perché naturalmente ci sarà un meccanismo di peer review altamente qualificato a livello globale e con il setup del portale per le proposte con l'annuncio che ha appena fatto il direttore di oggi partenza della prima call per l'accesso noi facciamo sostanzialmente meeting molto frequenti quando ci sarà la necessità di valutazione avranno una frequenza bisettimanale le call for access è stata elaborata in sintonia grazie appunto all'esperienza di molti dei componenti del standing committee delle migliori pratiche attuali da parte delle core facilities internazionali delle agenzie di finanziamento e dell'ESFRI e le clausole naturalmente previste dalla convenzione il bando pilota ha avuto e ha lo scopo di testare il flusso di lavoro per una procedura di accesso efficiente per far sì che quando ci sarà il grosso delle procedure tutto viaggi regolarmente di identificare i bisogni specifici della comunità per le future chiamate e valutare la necessaria dimensione delle piattaforme nazionali per un adeguato piano di sviluppo anch'io concludo con la sottolineatura di quanto sia importante per il nostro paese in questo momento straordinariamente competitivo essere da protagonisti sicuramente lo siamo per la qualità dei ricercatori sicuramente lo siamo per il talento degli individui non sempre lo siamo dal punto di vista organizzativo gestionale perché le cose sono complesse e oggi dare risposte semplici a problemi complessi significa dare risposte sbagliate noi speriamo che con questo cerchiamo di sfatare quella che è la maledizione di De Gasperi non so se la conoscete il nostro più grande statista nella prima finanziaria che fece da Presidente del Consiglio dopo la Seconda Guerra Mondiale quando i suoi consiglieri che già erano stati in qualche modo indotti all'importanza della ricerca gli suggerirono di investire un po' in ricerca lui rispose la ricerca è qualcosa è un lusso che non ci possiamo permettere quindi i fondi furono attribuiti ovviamente alla ricostruzione materiale del paese oggi sappiamo che senza la ricerca un paese non è in grado di prosperare dal punto di vista economico e sociale la ricerca non è un lusso speriamo di sfatarla questa maledizione con il Human Technology forse ce la possiamo fare grazie allora grazie a Walter Ricciardi Presidente del Comitato Scientifico dello Human Technology Paul e ridò la parola a Marino Zevial per analizzare le modalità di accesso alle piattaforme nazionali grazie benissimo adesso siamo arrivati al punto in cui possiamo discutere delle modalità e regole per l'accesso alle piattaforme nazionali prima di tutto come vi ho detto prima we are open siamo aperti questo è un altro trucco però un secondo applauso prima call del 10 giugno 2024 e si conclude il 31 dicembre 2024 non vi preoccupate don't rush avete tutto il tempo di mandare la vostra domanda di finanziamento perché vi spiegherò adesso il perché non c'è bisogno di essere di essere rushed allora le modalità di accesso delle piattaforme nazionali allora prima di tutto chi può accedere l'accesso è supportato da tramite una domanda di accesso ai ricercatori che sono affiliati secondo la convenzione non abbiamo detto noi secondo la convenzione all'università a istituti di ricovero e cura carattere scientifico gli IRCS e a enti pubblici di ricerca questo è quello che dice la convenzione l'accesso è di tre modalità accesso alla strumentazione questo significa un uso diretto dell'attrezzatura per esempio un microscopio a patto che ci sia la dimostrazione di esperienza pregressa accesso a servizi il secondo modo quindi esperimenti eseguiti dal personale della piattaforma per esempio sequenziamento genomico questo è uno degli esempi quindi si mandano i campioni e la piattaforma li sequenzi in questo caso accesso con formazione questo è una modalità interessante perché pervede che il personale delle piattaforme facciano un lavoro di formazione agli utenti all'uso della strumentazione disponibile quindi tre modalità ci sono anche nel portfolio di attività la formazione corsi di formazione questo dovrei ringraziare veramente i ministeri vigilanti perché hanno ovviamente abbiamo sollecitato questa interpretazione della convenzione ma i ministeri hanno accettato di interpretarla nel modo da rendere possibile l'accesso alle piattaforme nazionali per la formazione scientifica anche che non siano utenti che usino le piattaforme quindi corsi di formazione praticamente e quindi i corsi di formazione con il personale delle piattaforme nazionali saranno estesi all'intera comunità scientifica non soltanto agli utenti quindi a quelli che sono premiati per l'accettazione delle domande di finanziamento quindi questo permetterà anche di assicurare una maggiore conoscenza e visibilità a livello nazionale e internazionale quindi come ho detto prima per esempio il corso EMBO è stato uno dei metodi per poter dare evidenza alle piattaforme nazionali anche all'estero e quindi ci saranno le facilità infrastrutturali della fondazione che metteranno a disposizione queste competenze e quindi creare alla fine un sistema per aumentare lo scambio scientifico vi ho detto che è prima che l'idea delle piattaforme nazionali è quella di contribuire e supportare l'attività scientifica non soltanto Human Technopole ma anche della comunità scientifica nazionale questo secondo me è estremamente importante perché alcuni ricercatori che non hanno accesso a queste tecnologie potranno accedere e quindi aumenteranno il livello di competitività della propria ricerca quali sono le modalità di accesso allora l'accesso è concesso sulla base dell'eccellenza scientifica questo è l'obiettivo da parte della valutazione della commissione e le domande di accesso saranno valutate approvate giustamente dalla CVP la commissione indipendente di valutazione permanente che è stata mostrata già prima e vorrei sottolineare il fatto che questa è composta da ricercatori veramente di altissimo livello competenti nelle diverse aree e alcuni di questi sono anche presenti anche come membri del comitato scientifico sono presenti oggi qui in persona quindi è bellissimo vedere questo engagement da parte delle nostre commissioni e nel caso della commissione di dipendenti di valutazione permanente hanno fatto un lavoro straordinario hanno veramente pensato a come meglio interpretare i bisogni della comunità nazionale e si sono dedicati tanto al punto che hanno anche smesso di partecipare ad altre commissioni a livello internazionale questo vi dimostra quindi si dedicano in molti casi completamente alla missione delle piattaforme nazionali di Human Technopole questo è veramente straordinario sapete che nella comunità scientifica uno si deve adoperare nelle varie commissioni per esempio la ERC in questo caso rinunciano a tanti altri incarichi per lavorare per Human Technopole questo veramente voglio sottolinearlo allora come si accederà dovete presentare una domanda durata per questo vi ho detto don't rush non c'è fretta la presentazione della domanda sarà aperta durante tutto l'anno da qui cominciamo oggi e sarà aperta fino al 31 dicembre riapre il primo gennaio 2025 ci saranno delle domande standard di accesso alle piattaforme o proof of concept l'idea della commissione è che alcuni laboratori hanno bisogno di accedere alle piattaforme per prima cosa per ottenere i dati preliminari per essere finanziati questo è ovvio per esempio se si va a fare una domanda a livello internazionale ti chiedono i dati preliminari e beh se non hai la strumentazione per ottenerli come fai a ottenerli quindi in questo caso se dei progetti diciamo sono immaturi dal punto di vista tecnico saranno lo stesso supportati tramite questa domanda di proof of concept ci sarà poi un controllo di ammissibilità da parte dell'ufficio di Human Technopole semplicemente applicando le regole della commissione quindi nessun semplicemente essendo sicuri che le domande sono secondo ammissibili secondo i donne secondo la convenzione questo durerà un paio di settimane dopodiché c'è la valutazione e per la valutazione la commissione ha bisogno anche dell'analisi di fattibilità da parte dello staff delle piattaforme nazionali quindi ci sarà un sistema che permetterà quindi alla commissione di dialogare con i responsabili di piattaforma e di assicurarsi che i progetti di ricerca che sono interessanti sono più meritevoli possono effettivamente essere svolti da parte delle piattaforme quindi l'accesso alle risorse la valutazione delle risorse verrà quindi fatta sulla base dell'eccellenza scientifica e quindi anche dei costi come vi ho detto prima le piattaforme sono reddicontate quindi bisogna calcolare i costi bisogna vedere evidentemente la capacità da parte delle strutture quindi l'accesso sarà classificato e approvato in base al merito scientifico alla fattibilità come vi ho detto prima e anche la capacità della struttura se una domanda dovrebbe essere interessante però la capacità della piattaforma ormai arrivata al massimo non sarà scartata sarà semplicemente messa in coda per essere svolta quando è possibile e poi alla fine ci sarà l'approvazione dell'accesso quindi questa è tutta la pipeline di come si accederà alle piattaforme come ho detto il primo call pilota è il 10 giugno quindi è partito oggi le domande saranno valutate in tre fasi di valutazione durante l'anno questo per il 2025 e per spiegarvi quindi è per questo che non dovete non dovete precipitarvi a scrivere a mandarle perché c'è tempo ci sono semplicemente per un anno i bandi sono aperti tutto l'anno e ci saranno tre valutazioni annuali da parte della commissione quindi per questo avete tutto il tempo di fare il vostro di redigere il vostro programma il vostro progetto di ricerca prendendo tempo e sapendo che sta cosa qua non è semplicemente non perdete la deadline quali sono i candidati i candidati sono i PI i principal investigation che hanno hanno fatto domanda tramite il bando e che sono quindi responsabili del progetto che presentano quindi devono avere una posizione di group leader questa posizione può essere junior PI o PI affermato quindi junior PI fino a sei anni dalla prima nomina per una posizione di group leader i PI affermati per più di sei anni perché questa distinzione vi chiederete perché se noi valutiamo sempre il curricula e le domande di applicazione di accesso sulla base di competenze scientifiche uno che ha delle competenze che ha dei titoli estesi va evidentemente valutato meglio di uno che ne ha pochi quindi bisogna considerare che la commissione vuole e questo veramente va dato atto alla lungimiranza del CEO e degli altri membri della commissione 50% degli accessi disponibili sarà dedicato a ricercatori junior questo è importante perché sono quelli che hanno più bisogno di supporto all'inizio della loro carriera e hanno anche in generale meno titoli rispetto a un professore che è già ben affermato gli utenti delle piattaforme nazionali sono i PI se vogliono se fanno ancora esperimenti alcuni diciamo i più affermati penso che non abbiano visto una pipetta da 20 anni o più e altri membri del loro team ovviamente i PhD student i postdoc accederanno sono quelli in realtà che accederanno pensiamo di più alle piattaforme allora quali sono i criteri di valutazione importanza impatto scientifico della ricerca quindi la qualità della ricerca l'innovazione è importante questo l'innovazione e l'ambizione della ricerca l'approccio la metodologia i dati la presenza di dati preliminari però non ci sono e lo stesso il progetto interessante ci sarà quindi il finanziamento di proof of principle quindi la fattibilità anche il bisogno di supporto cioè la ragione per la quale si applica per le piattaforme nazionali ovviamente il profilo dei candidati e attenzione perché se un istituto di provenienza ha già delle piattaforme beh questo qua non è fair e quindi queste domande non verranno considerate perché le piattaforme nazionali devono aiutare quelli che hanno più bisogno se uno ha già le piattaforme accanto magari vuol farsi un progetto finanziato dal budget delle piattaforme non è fair questo ovviamente lo capite attenzione abbiate pazienza vi ho chiesto vi ho detto abbiamo tutto l'entusiasmo possibile gli head resource center hanno già tante collaborazioni con tanti di voi il responsabile di piattaforma e tutte le persone che lavorano in piattaforme hanno un'attitudine al servizio che non posso veramente non posso definire con più entusiasmo però è una fase pilota quindi non sappiamo quante domande avremo non sappiamo se saremo saturati non sappiamo quanta la capacità della piattaforma sarà in grado di soddisfare tutte le domande quindi vi chiedo di avere pazienza specialmente anche voi che siete online questo è un bando pilota quindi vogliamo testare il flusso di lavoro è un esperimento anche questo è un risperimento su scala nazionale non ce ne sono tanti in giro per il mondo e quindi in questo aiuterà la commissione a definire le procedure migliori per una valutazione efficiente che evidentemente si evolverà nel tempo a partire dal 2025 la commissione prevede di bandire tre diversi tipi di bandi quindi bandi standard per l'accesso ai servizi disponibili questo comunque pubblicato annualmente bandi anche ad hoc dedicati quindi a aree scientifiche che sono particolarmente cruciali per esempio la comunità scientifica di genomica ha richiesto ovviamente per parecchio tempo accesso a degli studi di genomica di popolazione quindi questi sono progetti molto grandi ed è chiaro che in questi casi le piattaforme nazionali una di queste piattaforme potrebbe praticamente lavorare parecchio tempo su uno di questi progetti quindi bisogna un po' cercare di avere un bilancio tra bandi standard e anche bandi dedicati e poi anche bandi di sviluppo tecnologico e di metodi questa è stata un'esigenza che è stata formulata dalla comunità scientifica noi abbiamo fatto vari incontri informali con le diverse comunità scientifiche di genomica di biologia strutturale di biologia computazionale biologia cellulare eccetera e i ricercatori in Italia hanno chiesto effettivamente di avere accesso alle piattaforme nazionali non soltanto per svolgere dei progetti con tecnologie già consolidate ma anche per sviluppare tecnologie nuove quindi secondo me è interessante questo punto perché permetterà tramite le piattaforme nazionali di far leva sulla creatività della comunità scientifica nazionale dando evidentemente accesso a strumentazioni che non sono sempre disponibili per sviluppare metodi che poi saranno metodi che aiuteranno l'intera comunità e ci faranno una ci daranno un profilo a livello internazionale quindi quindi sono piattaforma nazionale per l'open innovation ricordo ancora quello che ha detto il presidente Verona questo è un concetto bellissimo e bellissimo anche da farlo funzionare al servizio della comunità di ricerca nazionale come scrive anche Massimo Sideri prima e la capacità quindi di contribuire a elevare il livello tecnologico della della comunità scientifica nazionale quindi noi vediamo le piattaforme con gli hub tecnologici che lavoreranno come incubatori ma anche catalizzatori per lo sviluppo di strumenti e metodologie e quindi secondo me veramente con le pelle carteristiche particolari il fatto del tipo di ricerca e di metodi che mettono a disposizione e soprattutto il fatto che una filiera di tecnologie questo secondo me rende le piattaforme di Human Technopole un esempio direi unico nell'ecosistema italiano mi permetterei di dire anche a livello internazionale perché mettere insieme in maniera così coordinata attività tecnologie diverse è molto difficile e Human Technopole è in grado di farlo se volete sapere di più queste sono le informazioni ve le lascio qui e quindi a questo punto posso solo che ringraziarvi allora grazie mille ancora Marino Zevial volevo concludere questa prima parte dei lavori riprendendo l'idea molto bella di Ricciardi di superare questa maledizione di De Gasperi ricordiamo solo che il presidente degli Stati Uniti è sempre presente ai grandi lanci scientifici e tecnologici cito gli Stati Uniti solo perché sono un paese un'economia che ha sempre investito moltissimo ha sempre compreso la relazione tra scienza tecnologia e economia non solo Kennedy ma anche l'attuale presidente Biden ha voluto essere presente due anni fa al lancio del James Webb Space Telescope e diciamo ha preso quella vetrina per ricordare che gli Stati Uniti sono sempre molto attenti appunto all'eccellenza scientifica e tecnologica quindi prendiamo anche esempio da dove si può prendere per superare appunto quella che è stata chiamata la maledizione di De Gasperi ma dire che oggi è una giornata sicuramente che ci spinge all'ottimismo seguiremo con interesse la nascita di questo nuovo paradigma di collaborazione e non mi resta che fare in bocca al lupo alle piattaforme nazionali adesso c'è un light lunch e poi i lavori prendono alle 13.30 grazie mille buon pomeriggio vedo che l'ambiente è caloroso sono un sacco di persone che discutono benissimo mi dispiace per quelli che sono online che non sono presenti l'atmosfera qui mi sembra molto molto buona a questo punto dopo aver presentato in mattinata Human Technopole come struttura governance come piano strategico con le piattaforme nazionali passiamo in questa sessione pomeridiana a darvi veramente informazioni più tecniche e tecnologiche riguardo alle piattaforme nazionali quindi abbiamo qui con noi sul palco i responsabili delle piattaforme nazionali che sono stati selezionati dopo un bando competitivo e sono la dottoressa Clelia Peano che è responsabile della piattaforma nazionale di genomica il dottor Giovanni Fagà per l'editing genomico e modelli di malattia il dottor Nicola Maghelli per la microscopia ottica il dottor Alberto Riva per la gestione e analisi dei dati e per ultimo last but not least la piattaforma di biologia strutturale che è coordinata da Paolo Sweck a questo punto direi di non perdici in altre chiacchiere almeno da parte mia e di passare immediatamente a mostrarvi i wonders le belle cose le belle tecnologie che sono disponibili le piattaforme che voi utenti userete cominciamo quindi con Clelia Peano bene buon pomeriggio a tutti vorrei iniziare con un ringraziamento da parte mia e anche a nome dei colleghi che parleranno dopo di me per l'organizzazione di questa bellissima giornata e soprattutto per averci dato l'opportunità oggi di presentarvi il lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi ultimi tre anni per costruire le piattaforme nazionali e per far sì di essere oggi pronti a rendere disponibili le nostre infrastrutture le tecnologie e tutti i servizi che abbiamo implementato per dare supporto alla realizzazione dei progetti che verranno finanziati ai ricercatori italiani quindi un grazie sentito da parte nostra vorrei iniziare la mia presentazione con una slide introduttiva in cui vorrei cercare di farvi capire quali sono stati gli obiettivi che hanno guidato dall'inizio il lavoro che abbiamo fatto per costruire la piattaforma genomica in particolare i nostri obiettivi sono stati quelli di stabilire dei flussi di lavoro sperimentali analitici robusti e riproducibili riuscire a fornire servizi di sequenziamento in molti ambiti applicativi diversi nel campo della ricerca genomica implementare nuove metodi e tecnologie innovative e ovviamente offrire opportunità di training e workshop specializzati sulle tecnologie e le loro applicazioni per riuscire a raggiungere questi obiettivi abbiamo in questi anni messo in piedi un'infrastruttura e dei flussi di lavoro solidi standardizzati abbiamo chiaramente costruito un team di personale altamente qualificato offriamo e ci proponiamo di offrire un portfoglio molto ampio di tecnologie e di servizi di sequenziamento e infine abbiamo organizzato stiamo organizzando opportunità di training sulle tecnologie e le applicazioni e ci stiamo già proponendo di ampliare questa nostra offerta formativa in questa slide e nelle prossime cercherò di farvi capire qual è lo stato dell'arte della piattaforma genomica e soprattutto quali sono le nostre proposte come stiamo già lavorando per cercare di espandere la piattaforma genomica al fine di riuscire a supportare sempre di più e sempre meglio i progetti di ricercatori italiani la piattaforma genomica opera attualmente in uno spazio complessivo di 300 metri quadri di laboratori che sono situati all'interno del campus di Human Technopole abbiamo a disposizione due laboratori per il processamento e la preparazione dei campioni divisi in area pre-PCR e post-PCR per evitare chiaramente contaminazioni abbiamo un laboratorio che è totalmente dedicato all'automazione e questo ci permette di avere una buona capacità produttiva e di processare allo stesso tempo molti campioni in parallelo abbiamo un laboratorio che è totalmente dedicato alle tecnologie per l'analisi a livello di singola cellula e anche per l'analisi trascrittomica spaziale direttamente sui tessuti queste sono tecnologie particolarmente innovative infine abbiamo due laboratori di sequenziamento nei quali sono installati e operativi piattaforme all'avanguardia per il sequenziamento NGS che ci permettono di effettuare e produrre dati di sequenziamento su larga scala in modo flessibile e veloce uno degli obiettivi principali fin dall'inizio della piattaforma genomica è stata quella di riuscire ad offrire ai ricercatori un portfolio tecnologico molto ampio e questo per riuscire chiaramente a mettere a disposizione un ampio range di servizi nei nostri laboratori abbiamo attualmente a disposizione tecnologie come vi dicevo per la preparazione automatizzata dei campioni come ad esempio per l'estrazione e i controlli qualitativi degli asci nucleici e sistemi automatizzati che ci permettono chiaramente di avere una buona capacità produttiva e output abbiamo nei nostri laboratori a disposizione piattaforme per il sequenziamento altamente innovative in particolare per la generazione di short reads con le tecnologie Illumina oppure per la generazione di long reads con la piattaforma di Oxford Nanopore abbiamo deciso di investire molto anche su tecnologie per l'analisi a livello di singola cellula e per effettuare come vi dicevo analisi trascrizionale spaziale direttamente sui tessuti in questo senso lavoriamo con tecnologie sviluppate da Atenex Genomics e anche con approcci metodologici sviluppati da Nanostring anche se il parco tecnologico della piattaforma genomica è effettivamente già molto ampio stiamo già lavorando per cercare di espanderlo per quale motivo? l'obiettivo primario legato al lavoro che stiamo facendo per l'espansione del portfoglio tecnologico della piattaforma è mirato soprattutto a cercare di aumentare la nostra capacità produttiva al fine di riuscire ad accettare e realizzare sempre di più progetti che deriveranno dal finanziamento che i ricercatori italiani otterranno e anche soprattutto per ridurre i costi e quindi per questo motivo puntiamo a raddoppiare una delle due piattaforme automatizzate che sono già disponibili presso la nostra piattaforma allo stesso tempo vorremmo riuscire ad aumentare la nostra capacità e la nostra velocità di sequenziamento puntando parallelamente alla riduzione soprattutto al dimezzamento dei costi di sequenziamento e per questo motivo stiamo lavorando all'upgrade dei due sistemi Novasec di Illumina che sono disponibili presso la piattaforma all'ultima versione che si chiama X Plus che è stata recentemente rilasciata sul mercato da Illumina e andremo ad integrare anche tecnologie alternative di sequenziamento infine una cosa molto importante per noi è cercare di aumentare la risoluzione delle nostre analisi soprattutto per ciò che riguarda l'analisi trascrizionale spaziale che facciamo direttamente sui tessuti questo è molto importante anche per cercare di migliorare la qualità dei dati che produciamo e quindi stiamo già attualmente lavorando per mettere a punto nuovi approcci sperimentali che ci permettono di effettare questo tipo di analisi a livello cellulare oppure addirittura subcellulare al fine di poter gestire ed implementare tutte queste piattaforme che vi ho presentato è stato chiaramente necessario costruire un team di lavoro costituito di personale altamente qualificato il team della piattaforma genomica è attualmente strutturato in quattro unità infrastrutturali tre unità sono già attualmente operative in particolare abbiamo un'unità che si chiama di high throughput sequencing e il personale che fa parte di questa unità si è specializzato nel fornire servizi per analisi genomiche trascrittomiche epigenomiche metagenomiche ad esempio per supportare la realizzazione di progetti che prevedono lo studio su popolazioni o su ampie corti di pazienti abbiamo poi un'unità che è dedicata alle multi omics technologies ovvero il personale di questa unità è specializzato nel fornire servizi per l'analisi a livello di singola cellula quindi single cell sequencing oppure appunto per l'analisi trascrittomica spaziale direttamente sui tessuti questa unità si occupa anche di sequenziamento basato sulla generazione di long reads ed è un'unità che collabora a stretto contatto con la piattaforma di imaging e soprattutto con la tissue processing unit soprattutto per tutto ciò che riguarda l'implementazione di protocolli per spatial biology infine la terza unità attualmente operativa è l'unità di computational genomics questo è proprio il nucleo computazionale della piattaforma genomica e si occupa di effettuare pre-processing e analisi primaria di tutti i dati che vengono generati dalla piattaforma grazie all'implementazione di pipeline automatizzate questa unità collabora strettamente con la piattaforma di data analysis e anche soprattutto per lo sviluppo di pipeline di analisi che verranno messi a disposizione per supportare i protocolli e i metodi che verranno implementati nel futuro uno degli obiettivi primari della piattaforma genomica ma anche di tutte le altre piattaforme nazionali è quello di investire molto su sviluppo tecnologico come vi ha detto questa mattina anche il nostro direttore e per questo motivo già da quest'anno stiamo lavorando per riuscire a creare e rendere operativa la quarta unità infrastrutturale della piattaforma genomica che sarà appunto dedicata a technology development questa unità lavorerà in una prima fase in collaborazione con i ricercatori di human technopol per cercare di importare nella facility standardizzare ottimizzare tutti quelli che sono protocolli e metodi custom che sono già stati sviluppati dai ricercatori di human technopol e di rendere disponibili come servizi alla comunità scientifica in una seconda fase questa unità di technology development inizierà a collaborare a stretto contatto con i ricercatori italiani per dare supporto a quelli che sono progetti proof of concept di cui vi ha parlato Marino questa mattina saranno quindi progetti idee innovative un po' rischiose per cui i ricercatori italiani potranno chiedere supporto alla piattaforma genomica alla sua infrastruttura alle tecnologie per la realizzazione di questi progetti grazie alle tecnologie che vi ho mostrato e chiaramente al team di persone altamente qualificate e anche motivate che siamo riusciti a costruire nel corso di questi tre anni abbiamo sviluppato implementato all'incirca 20 categorie di servizi che verranno resi tutti disponibili ai ricercatori italiani a partire da oggi con i bandi che sono stati pubblicati questi servizi ci permettono di spaziare cioè di dare supporto a progetti che spaziano dallo studio di popolazioni allo studio di individui organi in contesti patologici oppure all'analisi a livello di singola cellula oppure all'analisi direttamente su tessuti fino ad arrivare alla singola molecola come previsto dal piano strategico di cui avete sentito parlare questa mattina siamo riusciti a mettere a disposizione dei ricercatori un ampio pannello di servizi per effettuare il sequenziamento dell'intero genoma sequenziamento dell'esoma sequenziamento del metagenoma per studiare ad esempio la variabilità genetica in studi di popolazioni su larga scala per cercare quindi di individuare le varianti geniche che possono essere associate all'insorgenza di una patologia o alla sua progressione ci siamo concentrati molto anche sulla possibilità di mettere a disposizione servizi per lo studio della regolazione trascrizionale tramite il sequenziamento dell'RNA oppure tramite ad esempio l'analisi del livello di metilazione del genoma oppure attraverso l'analisi delle modificazioni epigenetiche che sono alla base della regolazione della trascrizione infine infine abbiamo lavorato molto per rendere disponibile un ampio pannello di servizi per effettuare analisi trascrizionali o multiomiche a livello di singola cellula oppure come vi dicevo per effettuare analisi trascrizionali spaziali direttamente sui tessuti che provengono molto spesso dai pazienti infine grazie alla tecnologia di single molecule long grid sequencing quindi questa tecnologia che permette di generare sequenze molto lunghe realmente possiamo supportare progetti che vanno dallo studio di popolazioni in cui è necessario avere una comprensione maggiore delle sequenze genomiche della loro struttura oppure dei meccanismi regolatori alla base di essa anche in questo caso nonostante i servizi che abbiamo a disposizione e che stiamo mettendo a disposizione dei ricercatori siano molto vari ci stiamo concentrando sulla possibilità di riuscire ad espandere questo pannello di servizi perché vogliamo riuscire a dare la disponibilità ai ricercatori di effettuare analisi non puramente standard e stiamo già lavorando per cercare di implementare nuovi servizi concentrandoci in particolare su due categorie di servizi una prima categoria che prevede la possibilità di effettuare analisi multiomiche a livello di singola cellula ovvero ad esempio di sequenziare il genoma e il trascrittoma nella stessa cellula oppure di combinare ad esempio l'analisi dello stato di metilazione del DNA con il trascrittoma sempre a livello della stessa cellula e a questo proposito abbiamo implementato un workflow sperimentale che ci permette di essere completamente autonomi partendo dallo step di sorting delle cellule preparazione delle librerie con volumi miniaturizzati sfruttando i nostri sistemi automatizzati ed infine ovviamente generazione dei dati di sequencing allo stesso tempo vorremmo dare la possibilità ai ricercatori di poter effettuare analisi del proteoma su larga scala sfruttando le tecnologie di sequenziamento ovvero di riuscire partendo da basse quantità di fluidi corporei come ad esempio il plasma di arrivare all'analisi di migliaia di proteine in parallelo anche su studi effettuati su ampie corti di individui o di pazienti in questi anni ci siamo concentrati molto sul fatto di implementare un flusso di lavoro che ci permettesse di gestire in maniera efficace i progetti interni e i progetti esterni e soprattutto gli step legati alla pianificazione delle attività all'allocazione delle risorse alla realizzazione delle attività sperimentali e alla generazione di dati di sequenziamento al processamento dei dati di sequenziamento e poi infine alla consegna dei risultati e alla rendicontazione che è sempre necessaria quindi quando un progetto inizia i project managers della facility insieme ai managers della facility comunicano direttamente con i ricercatori con gli utilizzatori analizzano attentamente quelle che sono le esigenze del progetto pianificano le attività e si occupano dell'allocazione delle risorse successivamente le attività legate al progetto passano nelle mani dei team sperimentali quindi delle unità infrastrutturali della piattaforma che si occupano chiaramente della realizzazione delle attività sperimentali e della generazione dei dati di sequenziamento e queste attività vengono svolte grazie al supporto di un laboratory information management system una volta che i dati di sequenziamento sono stati prodotti questi passano nelle mani dell'unità computazionale che grazie a pipeline automatizzate di analisi si occupano di tutto ciò che è preprocessing analisi primaria e anche valutazione qualitativa dei dati che sono generati dalla piattaforma perché per noi è molto importante che i dati siano sempre qualitativamente soddisfacenti e allineati con gli standard che ci siamo prefissati nella fase di conclusione di progetto nuovamente i project managers della facility interagiscono direttamente con gli utilizzatori consegnano i risultati e si preoccupano di ricevere un feedback dagli utilizzatori perché per noi è fondamentale avere un feedback dai ricercatori che collaborano con noi per essere sicuri che il livello del nostro lavoro sia adeguato alle loro aspettative e infine chiaramente si procede alla fase di rendicontazione del progetto perché ho voluto farvi vedere questo flusso di lavoro su cui abbiamo lavorato il messaggio è più rivolto anche alle persone che sono connesse online vorrei farvi capire che avrete delle persone di riferimento con le quali interfacciarvi delle persone che saranno proprio un punto di collegamento tra voi e il team della facility che si preoccuperanno di gestire il progetto dall'inizio alla fine di analizzare le esigenze del progetto di accertarsi che tutte le attività preventivate siano state diciamo esaurite come previsto nelle tempistiche previste che anche i risultati del progetto siano assolutamente consoni alle aspettative e alle esigenze dei ricercatori venendo all'ultimo punto uno degli obiettivi principali della piattaforma genomica ma anche delle altre piattaforme come sentirete dai miei colleghi è quello di fare attività di training la piattaforma genomica propone tre tipologie di attività di training annuali workshop o simposia ovvero attività teoriche eventi della durata di un giorno in cui si discuterà di una specifica tecnologia delle sue applicazioni in cui verranno invitate speaker nazionali e internazionali di altissimo rilievo nel settore proponiamo poi di fare delle attività cosiddette training sessions ovvero delle attività miste teoriche e pratiche della durata di tre giorni in cui verranno formati i ricercatori su una specifica tecnologia e le sue applicazioni saranno organizzate dallo staff della piattaforma genomica in collaborazione con i field application specialists delle companies e in ultimo proponiamo delle masterclasses ovvero delle attività ibride teoriche e pratiche della durata di cinque giorni in cui proponiamo di formare i ricercatori su due o più tecnologie e queste masterclasses verranno organizzati da più piattaforme in collaborazione quindi avremo lo staff di più piattaforme che interagirà nell'organizzazione di queste attività di training insieme anche ai field application specialists delle company colgo l'occasione di questo evento per annunciare il prossimo symposium su spatial biology che si terrà presso Human Technopole l'11 di ottobre sarà appunto un evento della durata di un giorno rivolto ad un'ampia audience almeno 200 persone in presenza ma con modalità di partecipazione anche ibrida abbiamo veramente un programma molto fitto e speak di livello nazionale e internazionale decisamente molto rilevanti nel settore quindi invito tutti quelli interessati a registrarsi le registrazioni sono aperte a partire da oggi vengo a questa mia slide conclusiva per riassumere diciamo gli obiettivi finali della piattaforma genomica che sono chiaramente obiettivi condivisi tra tutte le piattaforme ovvero dare la possibilità alla comunità scientifica italiana realmente di cogliere delle sfide scientifiche e quindi cercare di accelerare scoperte rivoluzionari in tutti gli ambiti della ricerca genomica vorremmo riuscire realmente a far sì che la ricerca genomica in Italia diventi competitiva a livello internazionale e speriamo che la piattaforma di genomica possa diventare e fungere da ponte tra la comunità scientifica italiana e la comunità dei ricercatori di Human Technopole al fine di promuovere un ecosistema dinamico che incoraggi la collaborazione la condivisione delle conoscenze e anche l'innovazione a livello nazionale infine ringrazio ovviamente il team della piattaforma genomica che vedete in questa diapositiva senza di loro nulla di ciò che vi ho raccontato oggi sarebbe stato possibile quindi loro sono fondamentali sono persone estremamente competenti che daranno supporto alla realizzazione dei vostri progetti vi ringrazio benissimo grazie Clelia era chiarissimo tutto anche apprezzo molto come Clelia ha presentato l'attitudine a dialogare con gli utenti delle piattaforme che non è per lo più non è l'Amazon model per cui si tratta veramente di avere un dialogo in modo da perfezionare i protocolli lavorare in modo da non semplicemente applicare protocolli che sono uguali per tutti ma configurarli rispetto al progetto in particolare quindi molto bene questa questa spiegazione quindi continuiamo quindi con Giovanni Fagà che vi presenterà le piattaforme nazionali di editing genomico e modelli di malattia grazie Marino questo va solo avanti si va solo avanti va solo avanti perfetto tengo a chiarire che nessuno di noi lavora per Amazon perché sembra che il tema ritorni ok grazie a tutti grazie agli organizzatori non ripasso tutti i ringraziamenti se no perdiamo troppo tempo comunque grazie agli organizzatori grazie ai convenuti grazie anche a chi è connesso in remoto allora io sono il responsabile di una piattaforma che ha un nome lunghissimo si chiama National Facility for Genome Engineering and Disease Modeling la scelta del nome ha richiesto settimane di meeting briefing lotte intestine nel laboratorio ma per una ragione specifica abbiamo scelto questa perché l'acronimo è Jedi o Jedi quindi chiunque sia fan di Star Wars o di cognome faccia Skywalker avrà in omaggio se diventerà user della Facility avrà un omaggio di Star Wars ok di cosa ci occupiamo qual è la nostra missione la nostra missione è rappresentata qua da questi quattro campi biologia delle cellule staminali quindi pluripotenti indotte generate dagli individui o embryonic stem cell cellule embrionali il loro differenziamento in una diversità di tessuti l'ingegnerizzazione del loro genoma quindi l'editing genetico le modificazioni e ultimo diciamo ma non da meno vi darò un accenno a cosa stiamo preparando per automazione di laboratorio cosa abbiamo diciamo nel forno allora qual è l'idea dietro la nostra piattaforma l'idea è quella di creare una piattaforma di modellazione delle malattie che cosa vuol dire vuol dire che noi partiamo dall'individuo delle cellule somatiche di un paziente o di un soggetto di un donatore generiamo cellule indotte pluripotenti quindi riprogrammiamo le cellule di questo individuo fino allo stadio staminale le possiamo bancare caratterizzarle le ingegnerizziamo attraverso i servizi di gene editing e quindi abbiamo un modello di malattia in nuce da poter poi differenziare col terzo servizio che è quello di differenziamento in modelli bidimensionali Marino ha parlato di cardiomiociti ma ce ne sono moltissimi oppure tridimensionali che sono quelli che oggi vengono comunemente chiamati organoidi per tornare appunto idealmente all'individuo che cosa vogliamo fare vogliamo dare a voi a voi ricercatori una specie di cassetta degli attrezzi dove trovate tutti gli strumenti investigativi che vi servono per arrivare all'obiettivo cioè studiare la vostra malattia e come avete capito dalla presentazione di Clelia da quello che sia il presidente che il direttore hanno detto questa mattina c'è di più quindi diciamo che all'interno di una ideale pipeline in human technopole che connette l'istituto al paese i nostri modelli possono essere fotografati dal nostro fotografo Nicola Maghelli che fa delle immagini bellissime una facility super sofisticata Paolo che fa biologia strutturale e va a vedere fino all'atomo vengono sequenziati da Clelia e i dati generati vengono analizzati da Alberto ho usato i nomi perché siamo più così allora prima di arrivare alla descrizione dei servizi una brevissima un brevissimo escursus sulla nostra storia mi sono insediato nel dicembre del 2021 in human technopole non c'era niente avete visto la foto forse nella presentazione di Marino c'erano i banconi vuoti quindi abbiamo fatto una campagna di hiring molto breve e nel fine 2021 inizio del 2022 abbiamo iniziato a provare i vortex le centrifughe per metterli in funzione quindi siamo partiti proprio da zero in contemporanea abbiamo messo in piedi il servizio di reprogramming che è stato lanciato alla fine del 2022 il 2023 è stato l'anno dei servizi di genome engineering e di differenziamento e infine siamo arrivati a quest'anno al 2024 siamo qua al lancio delle piattaforme nazionali e come ci ho tenuto a scrivere il futuro lo scriviamo insieme siamo qui apposta per scrivere il prossimo capitolo tutti insieme allora iniziamo con i servizi di biologia delle cellule staminali il servizio è un servizio di reprogramming cosa vuol dire che noi partiamo da prelievi che vengono fatti sull'individuo in particolare da fibroblasti quindi skin biopsies biopsie della pelle oppure da cellule del sangue periferico PBNC e abbiamo anche a disposizione la possibilità di fare reprogrammazione da altri tipi di cellule ad esempio quelle epiteliali che si isolano dalle urine dei pazienti le rene alle epitelial cells queste cellule attraverso metodi diversi che sono stati sviluppati da altri ma ottimizzati da noi per l'impiego in una facility vengono riprogrammate attraverso un percorso estremamente lungo e complesso chi lo ha fatto nell'audience o a casa sa che questo è un percorso che dura diverse settimane e che genera alla fine delle linee cellulari clonali che noi chiamiamo masterbank e che restituiamo a voi restituiamo lo user ci vogliono come ho detto all'incirca due o tre mesi per completare il servizio noi restituiamo una masterbank che è di 10 creatubi che viene consegnata in ghiaccio secco direttamente nei vostri laboratori e voglio soffermarmi in maniera particolare sul certificato di analisi tutte le nostre cellule tutte le nostre linee cellulari vengono accompagnate da un certificate of analysis perché noi vogliamo certificare e garantire la qualità del materiale che produciamo che deve essere sempre uguale a se stesso sempre riproducibili in modo che tutti i tubi che vi mandiamo sono disponibili per fare gli esperimenti di cui avete bisogno quindi quality control qual è questo quality control abbiamo un pannello di saggi che vanno a comporre il certificato di analisi valutiamo la sterilità quindi l'assenza di micoplasma nelle linee cellulari sia nei campioni di partenza che durante il percorso delle settimane che ci vogliono riprogrammare il campione valutiamo l'identità cellulare quindi facciamo STR analysis di modo che vi garantiamo che vi stiamo restituendo la stessa cellula che ci avete dato all'inizio quindi non abbiamo cross contaminato i campioni abbiamo messo in piedi un pannello di saggi sia in immunofluorescenza che è in citometria di flusso collaborando con le altre facilite e le altre unità per da un lato certificare la pluripotenza di queste cellule che sono idealmente induced pluripotence stem cells e quindi valutiamo se sono in grado di differenziare nei tre foglietti germinali trigerm layer essi si chiama in gergo tecnico e poi andiamo a valutare anche i marker di indifferenziamento per verificare che siano veramente delle cellule staminali infine molto importante facciamo un'analisi grazie alla collaborazione con la facility di Clelia di Lopa sequencing quindi andiamo a verificare che il genoma di queste cellule che ha subito un processo di riprogrammazione non è stato alterato quindi non sono state introdotte delle anomalie o delle aberrazioni cromosomiche lo facciamo sia con sequencing che con un cariotipo più classico quindi copriamo le megabasi e le chilobasi infine scongeliamo un tubo prima di darvelo e vediamo che sia vitale quindi che le cellule che sono contenute preservate nel tubo siano veramente vitali prima di spedirvele ok abbiamo finito con la biologia delle cellule staminali passiamo al genome engineering il primo dei servizi che ho framo è il servizio canonico quindi noi andiamo a ingegnerizzare sia linee IPS che linee di cancro cancer cell line e linee motorizzate e andiamo a spegnere un gene introduciamo frame shift mutation frammenti di DNA e abbiamo lo spegnimento del gene quindi generiamo linee knockout per servizio ve le possiamo restituire criopreservate un altro servizio canonico chiamiamolo così di nuovo chi nell'audience applica tecniche di gene rating sa che queste sono di nuovo tecnologie estremamente sofisticate ma che rientrano diciamo nei servizi classici di ingegneria genetica tramite il knockin possiamo introdurre mutazioni puntiformi generare linee reporter quindi introduciamo reporter fluorescenti per seguire ad esempio il differenziamento di una staminale in un brain organoide o in un organoide cardiaco o comunque in un tessuto andiamo a rilevare la fluorescenza di un particolare sottotipo cellulare possiamo introdurre tag i classici flag tag o HA tags e fare integrazioni in safe harbor che sono i siti che nell'IPS si usano per fare knockin non ci fermiamo mai anzi come Marino ha sottolineato e anche Clelia anche noi facciamo molto sviluppo tecnologico quindi siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie per offrire nuovi servizi uno di questi è il base editing prime base editing sono da una decina d'anni le nuove frontiere dell'ingegneria genetica quello che ci permette di fare il base editing è quello di introdurre delle mutazioni puntiformi senza danneggiare il dna e quindi stiamo generando insieme alle altre facility alcuni servizi di supporto degli editor ricombinanti che vengono somministrate le cellule e introduciamo delle mutazioni puntiformi infine di nuovo nell'ottica dei proof of concept project a cui accennava Marino questa mattina noi faremo un servizio custom cioè se il vostro progetto non rientra in uno dei servizi precedenti di knock out di knock in noi lavoriamo con voi quindi ci sediamo parliamo con voi capiamo qual è il vostro progetto e cerchiamo di affrontarlo disegniamo la strategia sperimentale facciamo degli esperimenti pilota per arrivare a un proof of concept per vedere se la tecnologia è sviluppabile e si può raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati questa è una slide rassuntiva passo molto velocemente perché di fatto anche per i servizi di genome engineering noi offriamo il servizio di criopreservazione della master bank lo shipment in ghiaccio secco e un certificato di analisi dove in questo particolare caso l'analisi dell'integrità genomica è molto approfondita perché come alcuni di voi sapranno quando si fa geni ritiene il rischio altissimo di introdurre le mutazioni quindi approfondiamo molto questo aspetto in ultimo andiamo ai servizi di differenziamento come vi dicevo non ci fermiamo mai questo è un servizio sperimentale la nostra facilità è incubato all'inizio nel 2021 all'interno del centro di neurogenomica quindi offriamo in human technology un servizio di differenziamento di cellule staminali o di cellule embrionali in brain organoids quindi in organoidi del sistema nervoso abbiamo a disposizione una serie di protocolli diversi protocolli per il differenziamento delle staminali in cortical organoids ma abbiamo anche differenziato cellule staminali in organoidi cerebellari di talamo abbiamo anche affrontato il tema degli assembloidi recentemente abbiamo introdotto il servizio di generazione di cardiomiociti in 2D e di cardioidi quindi siamo in grado di generare modelli di cuore in tridimensione sono un'introduzione degli ultimi sei mesi sono bellissimi vorrei farveli vedere ma non ce li ho vi farò vedere o venite a vederli in laboratorio infine anche in questo caso abbiamo il servizio di custom project dove se il protocollo non è disponibile lo sviluppiamo con voi quindi cerchiamo di lavorare per svilupparlo questo servizio non è ancora disponibile nelle piattaforme per una ragione molto semplice è estremamente complicato lavorare in remoto con organoidi quindi siccome gli organoidi crescono per diversi mesi e ci sono i time point da raccogliere chi qui lavora su modelli di differenziamento sa benissimo che l'interazione è molto contigua tra chi si sviluppa e gli essay che ci sono downstream alla generazione degli organoidi quindi stiamo cercando di mettere in piedi un servizio che sia efficiente e lo faremo a partire dal 2025 ultimo automazione di laboratorio allora come vi ho premesso nelle slide precedenti i nostri sono protocolli molto lunghi quindi due o tre mesi per un individuo due o tre mesi per un knock out o un knock in questo impegna moltissime risorse nella facility e abbassa la capacità quindi la nostra capacità va aumentata in qualche modo e quello che vogliamo fare per offrire più capacità alla comunità scientifica è quella di implementare una piattaforma robotica bisogna fare un lavoro molto lungo in questi due anni e mezzo ci abbiamo messo a disegnare una piattaforma robotica in collaborazione con un partner straniero che ci aiuta a integrare una serie di sistemi automatici in un'unica piattaforma e l'obiettivo è quello che vi ho detto cioè quello di tradurre in flussi automatici quelle che oggi sono operazioni manuale fatte dai tecnici di laboratorio cioè proprio le operazioni che si fanno per riprogrammare e per fare gene editing che non sono equipment mediated quindi non ci sono in mezzo strumenti sono lavori di laboratorio questo è un rendering della piattaforma che installeremo a settembre di quest'anno installeremo due piattaforme una per l'automazione della generazione di cellule di APS e il mantenimento e una per la generazione in automatico in automazione di organoidi in sospensione di qualsiasi tipo devo dire con discreto orgoglio non c'è un esempio in Italia in accademia di questo tipo di piattaforma quindi è la prima volta che viene presentato un progetto di questo tipo e con questa ambizione e vi terremo aggiornati venite a vederla quando ce l'abbiamo perché vogliamo mostrarvela infine concludo con il training come ha detto anche Clelia anche noi in questi due anni e mezzo abbiamo organizzato diversi corsi ci siamo diciamo fatti le ossa nel training e a partire dall'anno prossimo apriremo i nostri corsi anche all'esterno abbiamo due tipologie di corsi disponibili al momento il primo è una formazione che dura due settimane hands on quindi in laboratorio per tutti coloro che vogliono imparare a lavorare con le cellule staminali sia pluripotenti indotte che le embrionali umane sono due settimane in laboratorio c'è un corso di teoria un corso di pratica e si impara tutto quello che vi serve per tornare al laboratorio iniziare a lavorare con le nostre cellule quindi diciamo il circolo è virtuoso il secondo è un corso di gene editing che tiene il nostro manager dell'unità di gene editing che è lì seduto Giacomo Frati che è un corso che vi dà tutti gli strumenti anche questo è un corso pratico venite disegnate le guide fate una nucleofezione e fate un knock out nel nostro laboratorio tornate nel vostro laboratorio e provate a farlo da soli abbiamo anche un servizio di shadowing che vuol dire che dopo il corso vi seguiamo se avete problemi nel vostro lavoro e questo è il team non posso spendere che parole di lode per queste persone che sono tutte persone altamente specializzate esperti di biologia staminali esperti di gino senza cui tutto quello che vi ho detto non esisterebbe e vi ringrazio grazie a Giovanni Fagà avete sentito quindi questi due aspetti non ci fermiamo mai con l'evoluzione delle tecnologie e poi anche i corsi di formazione che sono veramente ci è stato presentato come un punto veramente importante per la comunità scientifica nazionale di far training per i nostri PhD students e postdoc proseguiamo qui nel programma con Nicola Maghelli che vi presenterà la piattaforma nazionale di microscopia ottica e vi spiegherà anche il perché la microscopia oggi che ha fatto dei passi da giganti enorme è multimodale ed è molto importante che sia multimodale per risolvere i problemi che sono problemi diversi che quindi richiedono strumentazione specializzata Nicola Grazie Marino dell'introduzione buongiorno sono Nicola Maghelli sono il responsabile della piattaforma nazionale di microscopia ottica vorrei ringraziare ancora una volta tutti voi le persone connesse da remoto e durante il mio la mia presentazione vi parlerò della piattaforma nazionale di microscopia ottica vi parlerò dello scopo della piattaforma qual è la missione della piattaforma vi parlerò del perché la piattaforma è stata creata e più in futuro vi parlerò dei piani che abbiamo per il futuro la piattaforma infatti è in espansione vogliamo crescere insieme a voi secondo le esigenze della comunità scientifica italiana ma veniamo al primo punto qual è la nostra missione la missione della piattaforma nazionale di microscopia ottica è quella di supportare la scienza e i ricercatori cosa significa per noi significa mettere a disposizione dei ricercatori una serie di tecnologie all'avanguardia alle quali i ricercatori possono accedere significa mettere a disposizione assistenza per l'uso di tali tecnologie nel modo migliore possibile significa mettere a disposizione corsi di formazione sia pratici che teorici per mantenere i ricercatori aggiornati in un campo in costante e rapida evoluzione infine l'aspetto che è stato sottolineato ancora prima da miei colleghi di training appunto per la disseminazione della della knowledge veniamo al motivo perché c'è bisogno di una piattaforma nazionale di microscopia ottica abbiamo sentito il professor Zerial oggi parlare delle diverse scale e di come i ricercatori in l'ambito della biologia si trovano confrontati nello studio di fenomeni a diverse scale di grandezza ecco le scale tipiche vanno dalle scale subcellulari quindi stiamo parlando di dimensione attorno al micrometro un milionesimo di metro fino alla dimensione di una cellula che è una decina di micrometri un tessuto che può avere dimensioni attorno ai millimetri fino a un organo un individuo che ha dimensioni tipiche di un metro e tutte queste diverse scale devono essere accessibili ai ricercatori in più la sfida che vogliamo vincere è appunto correlare meccanismi che accadono a scale di lunghezza scale di grandezza diverse e capire come le proprietà emergenti come può essere la disfunzione a livello di un singolo organismo emergono come conseguenza di fenomeni che accadono a tutte queste diverse scale quindi per fare ciò è necessario che i ricercatori innanzitutto abbiano accesso a queste scale quindi il compito la missione della piattaforma nazionale di microscopia ottica è rendere visibile l'invisibile visibile nel senso lato del termine non solo ingrandire rendere più grande ma anche visualizzare cose come l'attività elettrica cellulare oppure una variazione statistica di una certa componente morfologica che è visibile solo su un ensemble molto grande di campioni quindi visibile non nel senso di ingrandire parliamo adesso della facility cosa sta facendo la piattaforma per per vincere questa sfida quindi per per completare la sua missione la piattaforma è divisa in diverse unità infrastrutturali al momento sei sono previste quattro sono attive e vi parlerò in più dettaglio delle quattro unità al momento attive che sono unità di microscopia di processamento di tessuti di cidometria a flusso e di ion imaging quindi andiamo a parlare della prima unità unità di microscopia come abbiamo già detto vogliamo rendere visibile l'invisibile Giovanni ha detto che io sono il fotografo delle piattaforme è vero noi ci occupiamo anche di fare di fare immagini però siccome siamo confrontati appunto con tutta questa diversità di scala abbiamo bisogno di tecnologie che ci permettano di fare fotografie su tutte queste scale diverse di grandezze non esiste una tecnologia unica per questo abbiamo bisogno di tutta una serie di tecnologie che consentano ai ricercatori di ottimizzare per una determinata scala di grandezza la raccolta dei dati quindi non è possibile avere un solo microscopio abbiamo bisogno di molti sistemi per accedere a tutte queste scale e un punto fondamentale è che tutti questi microscopi devono essere sotto un unico tetto per facilitare appunto la correlazione fra queste diverse scale quindi i ricercatori devono avere la possibilità di mantenere il contesto quando si fa fare l'imaging di un determinato meccanismo su una scala di grandezza devono avere il contesto per cercare appunto di avere questa correlazione cosa possiamo fare noi con i microscopi in nostro possesso possiamo andare dall'imaging in super risoluzione quindi a vedere i dettagli proprio della singola cellula a livello subcellulare possiamo vedere in questa immagine qua dove vediamo i dettagli della divisione cellulare qui siamo all'interno di un nucleo possiamo vedere come un gruppo di cellule interagisce e si organizza quindi una scala di grandezza ancora un pochettino più grande possiamo vedere come diverse centinaia di cellule iniziano a formare delle strutture diverse quindi ancora una volta il tema dell'emergenza delle strutture qui vediamo delle strutture che le cellule iniziano a formare fino ad arrivare a scale ancora più grandi alla completa architettura morfologica di un tessuto quindi i ricercatori devono e hanno la possibilità con la nostra piattaforma di utilizzare i sistemi per accedere a tutte queste diverse scale di grandezza non posso far vedere qui adesso ma tutto quello che stiamo vedendo qua non sono solamente immagini bidimensionali la biologia è infatti inerentemente tridimensionale quindi i nostri sistemi consentono anche di catturare in tre dimensioni la morfologia del campione è un'informazione importantissima e non solo questo consentono anche di aggiungere l'informazione temporale quindi come un campione va a svilupparsi nel tempo i cambiamenti morfologici come si è arrivati ad arrivare a una certa struttura che è un'informazione importantissima e già adesso credo che potete capire che non sono solo fotografie sono cose più complesse la quantità di informazione che insita in queste immagini è rilevante e in ultima analisi noi non vogliamo solamente produrre delle belle immagini da vedere vogliamo estrarre dati quantitativi da esse quindi è fondamentale che per ogni immagine ci sia un passaggio quantitativo di quantificazione dell'informazione per estrarre conoscenza dati molto grandi come immagini tridimensionali o immagini che contengono anche la dimensione temporale necessitano quindi di tool appositi per poter essere quantificati fortunatamente e questo è un altro vantaggio che abbiamo con la nostra piattaforma possiamo appoggiarci e coordinarci con la facility per data handling quindi sentirete dopo da Alberto più nei dettagli appunto per facilitare l'estrazione di dati quantitativi dalle nostre fotografie quindi questa era la prima unità infrastrutturale avere immagini e avere microscopi all'avanguardia è inutile se il campione non è preparato in modo adeguato la seconda unità strutturale è quello di processamento dei campioni si occupa appunto di fare in modo che i campioni che vengono ad esempio analizzati sulla prima unità infrastrutturale di microscopia siano preparati nel modo ottimale questo garantisce ai ricercatori da un lato l'utilizzo al massimo al meglio delle potenzialità dei sistemi della piattaforma e dall'altro lato garantisce anche la riproducibilità dei risultati in modo tale la riproducibilità è alla base del processo scientifico quindi di avere sempre i campioni preparati coerentemente nello stesso modo onde evitare dei bias sperimentali la seconda unità di processamento dei campioni è infine anche il punto di scambio come Clelia aveva già accenato prima con altre facility in particolare la facility di genomica per quanto riguarda lo studio dell'espressione genica però con l'informazione spaziale quindi queste sono delle pipeline che abbiamo messo a disposizione appunto per questo particolare tipo di studi non solo possiamo anche pensare di andare ancora più nel dettaglio possiamo appoggiarci alla facility di Paolo sentirete dopo più in dettaglio da lui la magia che può fare e cercare di correlare appunto l'ultrastruttura che si può ottenere da dati con microscopia elettronica con la struttura che si acquisisce con dei dati in microscopia ottica quindi lavori di microscopia correlativa microscopia ottica e microscopia elettronica e la seconda unità infrastrutturale della facility è appunto il nodo il punto di scambio tra diverse facility veniamo alla terza unità infrastrutturale l'unità di citometria a flusso questa unità ha il compito di trovare il proverbiale agone pagliaio mi spiego meglio pensiamo a un tessuto un tessuto è composto da diversi tipi eterogenei di cellule un ricercatore può essere interessato a una popolazione cellulare molto rara che è difficile da trovare con i metodi classici se io metto un tessuto sotto un microscopio non riesco facilmente a trovare una popolazione cellulare se questa non ha delle caratteristiche specifiche ebbene l'unità di citometria a flusso con le tecnologie che metto a disposizione consente appunto di individuare analizzare quantificare e anche estrarre queste popolazioni cellulare rare cosa possiamo fare una volta estratte le cellule che possono essere una minima frazione di tutte le cellule del tessuto possiamo andare avanti con l'analisi genotipizzarle passarle a Giovanni per far crescere degli organoidi quindi ci sono molte possibilità che questa unità metta a disposizione non solo l'unità mette anche a disposizione il suo know-how perché la citometria a flusso non è una cosa che ognuno può fare avendo a disposizione un citometro quindi l'unità mette a disposizione anche tutto lo suo expertise per fare questi tipi di esperimenti ultimo ma non in ordine di importanza l'unità di ion imaging dicevo prima visualizzare rendere visibile l'invisibile stiamo parlando adesso di attività elettrica cellulare l'unità basandosi con tecniche che si basano su matrici di elettrodi per contattare le cellule o su tecnologie che si basano sulla fluorescenza riesce a rendere visibile e a quantificare l'attività elettrica cellulare questo ad esempio è un'informazione importantissima per studi che coinvolgono neuroni o fibre muscolari come possiamo vedere qui adesso in questi video che sto facendo vedere l'attività cellulare viene visualizzata come un cambiamento di intensità oppure quantificata in un grafico quindi l'informazione sull'attività cellulare una cosa che non si può vedere occhio nudo viene visualizzata viene resa visibile dall'unità per ion imaging infine abbiamo l'aspetto di training e teaching tutti i nostri strumenti possono essere i nostri utenti possono avere accesso ai nostri strumenti e noi forniamo anche sia assistenza per l'uso degli strumenti ma anche training formazione sull'uso dello strumento significa che i nostri utenti vengono da noi riescono ad avere un corso di formazione sullo strumento fino a che non sono autonomamente in grado di utilizzare lo strumento per poi utilizzare in maniera autonoma la tecnologia nei due anni nei quali la facility è stata attiva abbiamo già fatto più di 100 training one to one per i nostri utenti esterni siamo adesso aperti anche per gli utenti esterni abbiamo fatto dei corsi di formazione teorica proprio sulla microscopia su altre tecnologie che sono parte della facility e siamo adesso impazienti di aprirci anche a voi per condividere con voi questi corsi veniamo adesso al futuro cosa abbiamo in serbo per i prossimi anni due unità sono ancora in fase di preparazione verranno a breve messe a disposizione per tutti voi stiamo parlando dell'unità di microscopia ad alto contenuto e dell'unità per microscopia custom perché pensiamo che ci sia bisogno di queste due ulteriori unità la prima la microscopia ad alto contenuto risponde al bisogno sperimentale di analizzare una grande quantità di campioni una quantità di campioni che sarebbe inefficiente da analizzare se dovesse esserci un operatore che prende un vetrino lo mette sotto il microscopio fa l'imaging e poi consegna risultati per analizzare ad esempio grandi corti di pazienti oppure cosa succede a un campione in molteplici condizioni è necessario fare uno scale up dell'esperimento quindi passare dal singolo vetrino a un formato più grande l'imaging poi deve essere automatizzato quindi metteremo a disposizione tecnologie che consentano l'imaging autonomo e totalmente totalmente automatizzato di grandi quantità di campioni non solo passare da un vetrino ad un formato più grande richiede uno studio accurato quindi la facility l'unità metterà anche a disposizione assistenza appunto per fare questo scale up dal singolo vetrino a un formato più grande l'ultima unità che voglio presentarvi è l'unità di microscopia custom perché allora la piattaforma nazionale mette a disposizione della comunità scientifica italiana quanto c'è di meglio disponibile sul mercato abbiamo microscopi all'avanguardia abbiamo staff che sa usare tali microscopi in maniera ottimale ma potrebbero sempre esserci delle tecnologie che non sono ancora commerciali sono ancora sperimentali quindi sono tecnologie inventate che magari sono disponibili all'interno di qualche laboratorio che forniscono un vantaggio critico per alcuni tipi di esperimenti l'unità di microscopia custom appunto il compito di rendere accessibile queste tecnologie che sono sperimentali quindi non si possono comprare microscopi basati su quelle tecnologie quindi renderà disponibili queste tecnologie a tutti gli utenti il vantaggio qual è? il vantaggio è che i nostri utenti saranno avranno accesso a queste tecnologie che nessun altro veramente pochissime persone al mondo avranno a disposizione ed in più l'unità 6 sarà anche il punto ideale per sviluppare in futuro le nostre tecnologie proprie sarà quindi anche il punto di incontro ideale fra il mondo accademico per lo sviluppo di nuove tecnologie nuove tecnologie originali ma anche con l'industria quindi sarà un punto dove le sinergie diverse possono creare delle tecnologie dei patent che andranno a beneficio di tutta la comunità scientifica italiana detto questo vorrei finire ringraziando lo staff della piattaforma nazionale loro sono quello che rende possibile tutto ciò e vorrei ringraziare anche voi per l'attenzione grazie a Nicola avete visto quindi come quelle tre piattaforme si avvalgono anche di robotica questo è un qualcosa che è emerso ultimamente veramente da quello che era prima una prerogativa dell'industria ormai diventa anche un qualcosa che viene introdotto nelle piattaforme e vedrete anche come la piattaforma di iContent dare la possibilità di fare effettivamente anche quello che faceva l'industria prima cioè screenare librerie librerie non soltanto possono essere librerie genomiche ma anche librerie di composti chimici quindi penso che questo sarà anche un'ulteriore spinta ai ricercatori in Italia che possono accedere alle piattaforme nazionali di questo tipo della microscopia di accedere a robotica e a microscopi fatti apposta per fare degli screening di solito erano riservati soltanto o all'industria prima o ai laboratori in realtà molto ricchi concludiamo quindi questa sessione e cominciamo il coffee break quindi un piccolo caffè per noi e riprendiamo per favore tra le 15 grazie benissimo cominciamo questa seconda parte del programma del pomeriggio con la descrizione della piattaforma nazionale per la gestione e analisi dei dati di Alberto Riva direi che c'era una pubblicità della Pirelli power is nothing without control io direi che i dati non sono niente senza un'analisi Alberto grazie grazie Marino per l'introduzione a tutti voi per l'attenzione e sono Alberto Riva responsabile della piattaforma nazionale di analisi e gestione dei dati ho schiacciato vuoto non è sbagliato ecco grazie allora il focus principale della nostra piattaforma è l'analisi e l'interpretazione dei dati biologici dati prodotti dalle altre piattaforme nazionali che avete sentito descrivere finora o anche da sorgenti esterne siamo aperti anche ai dati provenienti dall'esterno alle dovute condizioni la nostra piattaforma si differenzia leggermente dalle altre in quanto siamo l'unica piattaforma che non produce dati autonomamente non abbiamo strumenti nostri che generano dati e appunto per questo motivo invece siamo a valle delle altre piattaforme nazionali per analizzare dati prodotti da loro e vediamo il nostro ruolo in questo senso come facilitatori del processo che va dal dato grezzo prodotto dagli strumenti che avete sentito descrivere fino alla conoscenza che è quella che poi i ricercatori come tanti nell'audience devono produrre come risultato scientifico e quindi questo avviene attraverso il passaggio dell'informazione che possiamo definire come un dato al quale è associato un'interpretazione biologica quindi vorrei partire parlando di dandovi esempi di quali tipi di dati gestiscono la nostra piattaforma e quali sono i tipi di informazione che possiamo estrarre da essi dopodiché parlerò a descrivere la struttura della nostra piattaforma le unità infrastrutturali che la compongono e poi darvi uno schema di quali sono i vari passaggi di un progetto di analisi tipico gestito dalla nostra piattaforma quindi cominciamo vedendo i tipi di dati sui quali lavoriamo sono principalmente si dividono principalmente in due categorie dati di sequenza sequenze provenienti dal sequenziamento di DNA o RNA o anche eventualmente sequenze proteiche e in questo caso sono ovviamente quelle prodotte dalla facilità di genomica o da quelle di biologia strutturale e il secondo tipo di dati principali sono le bioimmagini quindi tipicamente quelle prodotte dalla tecnologia di microscopia delle quali avete appena sentito la descrizione o anche dalla piattaforma di genome engineering è importante notare che questi due tipi di dati sembrano distinti ma in realtà come penso sia chiaro da quello che ho sentito finora sono facce della stessa medaglia sono tipi di dati che in realtà sono strettamente collegati quindi si integra una vicenda e da questo punto di vista quindi ha senso che siano entrambi analizzati dalla stessa piattaforma con strumenti che in larga parte possono essere comuni stando più in dettaglio riprendo anch'io questo diagramma che avete visto già più volte di tutti i diversi livelli tutte le scale alle quali si svolge la ricerca all'interno di HT e anche all'esterno quindi per esempio partendo dal livello molecolare sappiamo che abbiamo tecnologie per sequenziare DNA e RNA su larga scala quindi possiamo ad esempio usare i risultati del sequenziamento per estrarre informazioni sulle varianti genetiche varianti strutturali che possono essere messe in relazione ad esempio con malattie oppure abbiamo tecnologie per determinare lo stato di metilazione oppure eventi di binding tra DNA e proteine oppure l'accessibilità della cromatina tutte queste sono applicazioni specializzate del avale del sequencing che possiamo usare ad esempio per la ricostruzione della regolazione genetica all'interno delle cellule andando a livello cellulare avete sentito che abbiamo tecnologie in grado di sequenziare molecole di RNA in modo single cell quindi tenendo traccia della singola cellula dalla quale proviene ogni molecola di RNA oppure anche di fare imaging di cellule singole e questo ci consente ad esempio di determinare pattern di espressione genetiche che sono specifiche di determinati tipi di cellulare quindi classificare le cellule sulla base dei loro pattern di espressione in specifica andare a studiare il modo in cui le cellule si differenziano perché durante la differenziazione questi pattern cambiano quindi possiamo studiare le traiettorie temporali sulle quali si evolvono queste cellule arrivando a diagrammi come quello che vedete qui dove ogni isola colorata rappresenta un diverso tipo di cellule e quindi possiamo studiare la composizione l'abbondanza relativa e così via questo diagramma è basato semplicemente sull'espressione dei geni ma sappiamo che possiamo anche andare a vedere le cose in modo spaziale ad esempio studiare la distribuzione di determinati proteini e determinati marker all'interno delle cellule a livello di tessuto tipicamente l'esempio classico è l'analisi di RNA sequencing quindi andare a studiare il livello di espressione medio di tutti i geni o quasi tutti i geni all'interno di una popolazione di cellule e il valore principalmente di uno studio di questo genere avviene quando poi confrontiamo lo stesso la stessa popolazione di cellule in condizioni diverse quindi ad esempio possiamo studiare l'espressione differenziale come in questo caso dove vediamo i geni che sono sovraespressi o sottoespressi in risposta a specifici trattamenti o altri stimoli esterni e di nuovo possiamo vedere le cose anche in senso spaziale con la trascrittomica spaziale della quale ha parlato Clelia che ci porta ad esempio immagini di questo tipo dove vediamo una sezione di un tessuto dove ogni colore rappresenta un diverso tipo di cellule ma in questo caso lo vediamo nel suo contesto spaziale quindi possiamo mettere in relazione qui l'espressione di questi geni o di questi marker con la struttura vera e propria del tessuto e da qui possiamo salire a livello dell'organo dell'organoide in questo caso passiamo da una rappresentazione in due dimensioni a una tridimensionale quindi la posizione relativa delle cellule in un organo qual è l'espressione relativa di certi marker nelle regioni diverse in un organo e quindi capire l'eterogeneità e l'organizzazione interna quindi facciamo un passaggio a un livello di complessità superiore infine arriviamo al livello della popolazione e come dicevamo per ricollegarci all'inizio possiamo studiare la distribuzione di varianti genetica non nella singola cellula nel singolo individuo ma in intera popolazione di individui che magari sono accomunati da una certa caratteristica e quindi andare a correlare queste distribuzioni attraverso metodi statistici con la diffusione di certe malattie le risposte alle terapie e così via abbiamo avuto ad esempio esempio più evidente pochi anni fa quando studivamo la diffusione delle varie varianti di covid a livello di salute pubblica e invece possiamo tornare a livello dell'individuo verso applicazioni di medicina personalizzata andando a vedere come il singolo individuo si differenzia dalla media della popolazione e quindi può richiedere terapie specifiche e così via quindi visto questa panoramica dei tipi di dati e di informazioni che possiamo estrarre da essi parlerò ora della struttura della nostra piattaforma che è composta di tre unità infrastrutturali la prima è quella per l'analisi di bioimmagini la seconda è quella che si dedica alle analisi omiche quindi diciamo in generale basate sui dati di sequenziamento e la terza è un'unità tecnologica che si occupa di sviluppo software sviluppo di database sviluppo di applicazioni su web che fa da supporto come vedremo alle altre due andando a vedere più in dettaglio i servizi a livello generale i servizi forniti da queste unità l'unità di analisi di bioimmagini unità 1 fornisce prevalentemente servizi di analisi approfonditi di immagini biologiche questo tipicamente include una fase di controllo di qualità che è comune più o meno a tutti i servizi per avere la garanzia che i dati siano effettivamente utilizzabili ripulitura delle immagini restoration quando necessario e poi i passaggi tipici sono la segmentazione delle immagini quindi riconoscere automaticamente la presenza di determinati oggetti nelle immagini e la quantificazione vediamo ad esempio in un'immagine come questa che rappresenta anche se una sezione di tessuto possiamo isolare una certa regione e all'interno di questa regione sommandolo andare a riconoscere automaticamente la presenza non solo la presenza delle cellule ma anche distinguere diversi tipi di cellule che in questo caso sono rappresentate dai diversi colori sulla base della morfologia o della presenza di ficio al salone interno come il nucleo e così via quindi in questo caso ogni colore rappresenta un diverso tipo di cellula che è stato riconosciuto automaticamente e da qui si può fare quantificazione per un esempio classico andare a contare ad esempio quante cellule tumorali ci sono all'interno di un tessuto in proporzione rispetto alle cellule sane sulla base della morfologia queste sono operazioni perché ovviamente vengono fatte con strumenti software in modo quasi automatizzato c'è sempre diciamo bisogno dell'occhio dell'esperto umano ma come avete sentito presto avremo tecnologie in grado di produrre grandi quantità di immagini molto grandi e quindi è sempre più importante essere in grado di fare queste analisi in modo automatizzato altrimenti non non riusciamo a stare a passo con la tecnologia quindi la seconda attività principale di questa unità è quello di sviluppo internamente di strumenti di analisi di immagine e questi strumenti sviluppati internamente entrano a far parte del portfoglio di risorse dell'unità e vengono anche messi a disposizione della comunità come strumenti open source che è pratica standard in questo campo similarmente per l'unità 2 il servizio principale è l'analisi di dati di NGS che comprende diciamo una prima fase più standardizzata che viene effettuata con pipeline completamente automatizzate che di nuovo partono dal controllo di qualità e vedono normalmente l'allineamento al genoma di riferimento e da qui la generazione di statistiche e di conte a seconda di quale sia l'applicazione specifica ma il vero valore aggiunto viene poi nella fase successiva quando si esce da ciò che è il processo di analisi standard e si passa a quello più specifico per il progetto al quale stiamo lavorando e questo è un approccio più esplorativo che può richiedere che in generale richiede anche qui lo sviluppo di strumenti di analisi customizzate ad esempio qui vediamo una mappa che descrive le interazioni fisiche tra diverse regioni di un cromosoma questo è un'applicazione di un protocollo particolare basato sul sequencing che però richiede un'analisi più approfondita dello standard questo è un altro esempio abbiamo una rete di regolazione tra gruppi di geni che viene ricostruita in modo automatico a partire da dati di espressione questo in particolare è la rete che riguarda la sintesi dell'insulina e quindi il messaggio in questo caso è che la componente di sviluppo metodologico e tecnologico è insita in tutti i servizi che forniamo quindi in misura diversa ma prevediamo che tutti i tipi di progetti che svolgeremo richiederanno una componente di sviluppo tecnologico e questo è il motivo per cui esiste la terza unità infrastrutturale che ha proprio il compito di sviluppare e tenere in funzione e manutentare diciamo le pipeline computazionali e gli strumenti utilizzati delle altre due unità questo sia questa unità si rivolge sia all'interno appunto sostenendo il lavoro delle altre due unità sia verso l'esterno perché un'altra attività è quella di creazione di risorse destinate invece alla comunità scientifica sotto forma di applicazioni web o database pubblici e così via vediamo quindi qual è il flusso tipico di un progetto che viene gestito dalla nostra piattaforma e qui riprendendomi qualcosa che è stato già detto più volte la priorità è quella di lavorare in modo collaborativo in modo interattivo non secondo il modello Amazon quindi voi mandate una richiesta noi vi mandiamo dietro i risultati e finisce lì ma l'idea è di avere occasioni di interazione di feedback a ogni passaggio del progetto quindi si inizia con una fase di kick off che consiste nel incontrarsi con gli utenti con i ricercatori e valutare assieme quali sono gli obiettivi del progetto qual è il punto di partenza quindi i dati disponibili quali sono i risultati attesi quali sono i tempi e qual è un'altra cosa molto importante il piano per la gestione dei dati prodotti nel contesto del progetto e questo è uno dei motivi per cui la facility si chiama non solo data analysis ma anche data handling gestione dei dati la seconda fase ovviamente è quella di controllo qualità che è specialmente importante per dati prodotti dall'esterno perché dobbiamo essere sicuri che rispettino i criteri di qualità che sono necessari per il successo del progetto e qui l'outcome può essere idealmente che va tutto bene si procede oppure può essere che è necessario produrre altri dati oppure rivedere gli obiettivi del progetto sulla base dei dati disponibili come dicevo ogni progetto prevediamo che includerà una fase di sviluppo di strumenti e di metodi anche questa svolta in collaborazione con gli utenti con i ricercatori per assicurarsi che rispetti le esigenze del progetto e poi c'è l'analisi vera e propria che come dicevo consisterà in tipicamente di una fase standardizzata e automatizzata che quindi viene svolta praticamente senza intervento umano e poi la parte invece più approfondita anche questa svolta in collaborazione con gli utenti infine cosa molto importante il che cosa restituiamo agli utenti a di nuovo differenziandoci dal modello Amazon l'idea non è semplicemente di mandare un file con i risultati e tanti saluti ma fornire qualche cosa di più anzitutto i risultati dell'analisi sotto forma di report dettagliato che contenga informazioni sul controllo di qualità sui metodi utilizzati i parametri le assunzioni e risultati in forma interpretabile con un'enfasi sulla rappresentazione grafica oltre alle specifiche di tutti gli strumenti utilizzati gli strumenti software l'idea è quella di fornire un report che è già diciamo un punto di partenza per una pubblicazione la seconda componente sono i dati questi esperimenti come avete visto generano grandi quantità di dati quindi questi dati devono essere sono di proprietà diciamo degli utenti che devono essere rimandati agli utenti nelle forme appropriate e la terza cosa che è una caratteristica del modo in cui opera la nostra piattaforma è che non ci limitiamo a fornire risultati e i dati grezzi ma anche l'intera pipeline di analisi utilizzata per arrivare a questi risultati in questo caso l'obiettivo è duplice da una parte ovviamente riproducibilità che l'utente lo scienziato che riceve questi risultati deve essere in grado di ripercorrere l'intero processo di analisi e idealmente ottenere gli stessi risultati ma l'idea è anche di mettere gli scienziati in grado di diventare autonomi da questo punto di vista in modo che poi la piattaforma possa passare a fornire servizi ad altri e questo si collega a un'altra missione fondamentale di tutte le nostre piattaforme quindi anche della nostra che è quella dell'empowering degli scienziati quindi l'idea non è semplicemente di svolgere un progetto di analisi dare risultati fine ma di usare ciascuno di questi passaggi di un progetto come occasione per trasferire conoscenza quindi diciamo per espletare la funzione di training che fa parte dei servizi forniti dalla piattaforma quindi questo vale a tutti i livelli a cominciare dall'analisi iniziale del progetto attraverso lo sviluppo di metodi l'analisi fatta in modo congiunto e poi appunto il delivery dei risultati e ultimo aspetto importante quello della disseminazione della conoscenza prodotta delle risorse prodotte e anche questo è qualcosa che ha un'importanza fondamentale per la nostra piattaforma e sulla quale la nostra piattaforma ha gli strumenti e le competenze per assistere licenziati e questo può assumere varie forme diverse anzitutto abbiamo parlato di dati sia quelli grezzi quelli iniziali sia quelli che sono il risultato del processing che avviene durante l'analisi è praticamente un obbligo di questi tempi sottomettere i dati utilizzati per un progetto o un'obbligazione a database pubblici questa è un'attività che richiede un certo tipo di competenze richiede certi strumenti quindi questo sicuramente fa parte dei servizi dell'assistenza che possiamo fornire nell'ambito di un progetto spesso i risultati di un progetto di analisi portano alla creazione di database contenenti informazioni che possono essere in generale che sono una risorsa preziosa per tutta la comunità e quindi un'altra attività sarà quella di creazione di database che siano facilmente accessibili interoperabili in modo che possano diventare risorse a disposizione della comunità per poi essere fonti di informazioni per altri progetti e infine un argomento che sta particolarmente a cuore è il fatto che molto spesso nell'ambito di un progetto di bioinformatico di analisi di dati viene sviluppato software e c'è il forte rischio che questo software questi strumenti queste risorse poi vengono abbandonate una volta che il progetto finisce i finanziamenti si esauriscono gli scienziati si spostano ad altre posizioni e questo è un grave danno per la comunità perché appunto sono strumenti che sono stati diciamo alla base di pubblicazioni quindi dovrebbero essere disponibili sono strumenti si immagina utili pagati con fondi pubblici quindi un altro modo in cui la nostra piattaforma si ripromette di sostenere questo tipo di ricerca è nel farsi carico di assicurare la sopravvivenza di questi di questi strumenti software facendo creando diciamo un repositori centralizzato di strumenti software che abbiano un valore per la comunità che quindi noi possiamo occuparci possiamo mantenere garantendone la sopravvivenza un'ultima slide a proposito delle risorse computazionali che abbiamo a disposizione abbiamo un cluster HPC interno ad HT con varie migliaia di core 25 processori grafici e circa 10 petabyte di spazio di storage nel caso di progetti che vanno che richiedono risorse che vanno al di là di quello che è disponibile internamente abbiamo l'accesso a risorse computazionali cloud based e infine in prospettiva c'è il piano di integrazione con infrastrutture bioinformatiche a livello europeo come ad esempio il progetto Elixir concludo con questa grafica che mostra quindi il che riassume un po' quello che ho detto sul modo di operare della piattaforma piattaforma acquisita da due unità dedicate principalmente all'analisi e una che fa da collegamento tra le due e da supporto fornendo gli strumenti tecnologici e tutte queste unità forniscono servizi sia verso l'interno verso HT sia ovviamente prevalentemente verso la comunità scientifica nazionale ma la cosa importante è che queste frecce sono bidirezionali in realtà perché una delle missioni della nostra piattaforma è quella di diventare un punto di raccolta per tutti gli avanzamenti tecnologici e metodologici prodotti nell'ambito di questi progetti sia quelli interni e quelli esterni e metterli una volta a disposizione della comunità scientifica con questo concludo ringraziando anch'io i membri del mio staff e tutti voi per l'attenzione grazie grazie Alberto c'è devo dire che c'è un grande bisogno nella comunità scientifica italiana di questo tipo di piattaforma perché i metodi di analisi non sono mai sufficienti per esempio nel caso della microscopia è impossibile oggi pubblicare delle immagini di un giornale di alto livello senza anche delle quantificazioni quindi tutta la parte di analisi delle immagini analisi quantitativa richiede anche lo sviluppo non ci sono dei software che si comprano semplicemente e si applicano cioè ancora i software disponibili commercialmente non sono sempre in grado di dare le risposte che abbiamo quindi questo è un esempio del fatto che la piattaforma secondo me darà anche un aumento di competitività per la comunità nazionale perché avremo effettivamente tecnologie che sono di punta nel settore concludiamo quindi con Paolo Sweck che ci presenterà la piattaforma nazionale di biologia strutturale grazie mille sono incredibilmente emozionato quindi perdonatemi perché oggi cioè io sono stato utente e questa è la facilità che avrei voluto avere quindi penso che è un grande passo per tutti ok un rinfresco di memoria oh ah sto andando avanti indietro ma quella verde ok allora un rinfresco per chi è tanto che non fa biologia strutturale cos'è che facciamo esattamente quando qualcosa si rompe e va storto la prima cosa che si fa in ogni campo la si smonta e si va alla ricerca di quel pezzo che blocca il meccanismo in questo caso una macchina fotografica con una ghiera danneggiata quello che noi facciamo osserviamo per capire in casi patologici curare o in casi fisiologici imparare quelli che sono i meccanismi naturali la biologia strutturale fa esattamente questo soltanto che non è una macchina fotografica ma nel nostro caso il modello è l'essere umano con le sue 100 trilioni di cellule più cellule o meno fatta di meccanismi dei più disparati con funzioni delle più diverse quello che noi facciamo in biologia strutturale andiamo a studiare la forma tridimensionale di queste proteine enzimi DNA cofattori per capire come funzionano nella fisiologia e nella patologia ora 2024 il paradigma per cui un'unica tecnica ci aiuta a risolvere il problema che noi abbiamo è scaduto quindi quello che noi utilizziamo è biologia strutturale integrativa che è un'orchestra di tante diverse tecniche una molto specializzata nel nostro caso utilizziamo queste tecniche in maniera concertata per andare a rivelare delle informazioni o a validarle quello che vedete adesso in evidenziato è la grande rivoluzione degli ultimi anni la rivoluzione basata su intelligenza artificiale che è stata pubblicizzata ovunque e per i non addetti al settore è stato un pochettino noi abbiamo ricevuto delle chiamate abbiamo visto che è uscito alfafold che fai adesso che faccio lo uso perché quello che fa alfafold per chi non lo sa è in grado di data la sequenza quindi la semplice stringa di amminoacidi è in grado di andare a predire predire non rivelare predire la struttura tridimensionale del proteine non è una minaccia per il campo è l'ennesimo tool che noi utilizziamo che usiamo tutti i giorni in laboratorio quindi perché la National Facility di Structural Biology perché come vi ho detto si ha bisogno di tante tecniche diverse di tante unità diverse che abitano sotto lo stesso tetto che si parlano che si scambiano i campioni che si scambiano idee e questo è il motivo per cui non può funzionare la frammentazione della tecnologia per il nostro campo e credo anche per l'altro come per le altre Facility abbiamo tre missioni principali che sono quella di erogare i servizi banalmente far accedere i ricercatori che ne hanno diritto alla nostra strumentazione e ai nostri protocolli abbiamo 18 servizi che sono delle madri osche sono fatte di sottoservizi dal più basic al più advanced quello di sviluppare nuovi metodi e abbiamo un'unità lo vedremo tra poco dedicata in grado di prendere le domande dei ricercatori e tradurle in offerte tecnologiche terzo ma non ultimo di importanza il training quindi abbiamo fatto un conto 200 ore di training per ogni servizio la cosa più particolare che abbiamo è la trasferta cioè potete avere uno di noi per due giorni nel vostro laboratorio per vedere a casa vostra cosa va e cosa non va e quindi darvi una mano darvi i dettagli di tutti i servizi di tutte le tecnologie di tutti gli accessi è impossibile però da oggi come avete sentito sono disponibili tutti i dettagli nella nella nostra web page parto adesso con una descrizione di quello che possiamo fare per un po' ingolosirvi quindi la National Facility Structural Biology è fatta da sei unità la prima unità è la cryo-electron microscopy cryo-microscopy elettronica la microscopy elettronica è forse la forma di senza il forse falsa modestia è la forma di microscopy più alta risoluzione che si è sviluppato fino ad oggi utilizziamo elettroni per andare a fotografare il nostro campione se il campione viene congelato e mantenuto a meno 190 gradi centigradi si parla di cryo-elettron microscopy l'ho fatta molto molto semplice in realtà semplice non è perché parliamo di strumentazione di altissimo valore tecnologico che non viene mai spenta quindi questa macchina è accesa da un bel po' se non mesi e sono macchine da tre metri molto difficili da gestire che hanno bisogno dello spazio e delle competenze giuste per poter fruttare immagini quello che l'unità offre giusto per darvi due esempi è il forse quello che è più richiesto dalla community nazionale cioè la forma di imaging ad altissima risoluzione quindi possiamo andare a vedere ogni singolo pallino che venete nell'immagine una singola proteina un singolo enzima quello che possiamo fare possiamo prendere immagini ad altissima risoluzione fino ad andare a vedere la presenza di mutazioni o cambiamenti a livello all'osterico all'interno della struttura tridimensionale l'altro tipo l'altro esempio che volevo portarvi è qualcosa di molto specifico e unico in Italia ad oggi che è un protocollo di cryoclem cryoclem lo porto perché si riallaccia perfettamente a quello che possiamo fare con le altre facility quindi possiamo potete immaginare potete giocare con la vostra fantasia potete prendere una cellula da una facility analizzarla da Nicola tramite light microscopy chiedere a Clelia di fare l'analisi potete chiedere a noi di prendere il vostro campione in questo caso una cellula di glioblastoma congelarla in etano liquido quindi mantenerla a meno 190 gradi e andare a vedere quale delle tante cellule sul supporto fluoresce in questo caso vedete abbiamo selezionato una cellula di glioblastoma ed è esattamente quella cellula che poi metteremo nel microscopio elettronico a trasmissione ed è esattamente lì che andremo a effettuare l'immagine la seconda unità è l'unità di biomassa ed è forse l'unica che potrebbe essere un po' non perfettamente capita non mettiamo a disposizione degli shaker quando dico biomassa non è un affitto di uno shaker ma è l'utilizzo di expertise e di tecnologia di alto livello per produrre appunto da DNA iniziale massa in grado di produrre il campione di interesse che volete studiare quindi tutto quello che c'è tra in questo caso tra il DNA e il campione da purificare viene effettuato seguito concertato dalla unità di biomassa quello che offriamo offriamo cellule insect cells bacteria yeast ma anche mammalian cells e di nuovo il messaggio che voglio darvi è abbiamo tutti gli strumenti e le persone adatte per andare dalla small scale alla large scale che non è un processo banale quindi abbiamo fermentatori fino a 150 litri la terza unità è quella di biofisica questa unità ci permette e permetterà agli utenti che accederanno di andare a purificare il campione biologico di interesse quindi una prima analisi permetterà di caratterizzare il campione quindi tutte domande che un minuto vi farò vedere tramite diverse tecniche perciò all'inizio vi dicevo una matrioska perché ogni unità è altamente specializzata e fornisce diversi diversi esperimenti ma anche lo studio di interazioni da partner quindi recettore ligando proteina proteina e non per ultimo cristallografia di proteine quindi che va a complementare la parte di high resolution cryolectron microscopy giusto per darvi un esempio e sfido io a non avere queste domande nei vostri progetti questo è sette di domande che possiamo presentare all'unità di biofisica che sono potrebbero sembrare banali quindi dalla semplice analisi del peso molecolare del vostro campione fino allo stato di aggregazione o alla stabilità la quarta unità è l'unità di structural proteomics ed è è un po' l'olio va dappertutto cioè ogni progetto dovrebbe aver bisogno di questa di questa unità il concetto è molto semplice si va a fissare il campione che sia un estratto cellulare o proteine purificate le fissiamo con dei crosslinker dei reagenti chimici digeriamo il campione e lo analizziamo tramite spettrometri di massa il risultato finale è una mappa un network che ci rivela le interazioni tra proteine ma anche ci va a validare quello che Alphafold aveva previsto quindi duplice funzione giusto per darvi un esempio questo è un progetto che è stato pubblicato in cui ho lavorato il manager dell'unità e in A e in B vedete queste mappe questo network ed è una tecnica incredibilmente efficace e sfido io ogni ricercatore a non pensare di utilizzarla nel proprio workflow per andare a validare o rivelare la quinta unità la quinta unità è quella di dynamic single molecule mi dispiace non lo so tradurre singola molecola dinamica ed è complementare a tutte le altre unità abbiamo parlato di struttura a noi interessa la struttura per poi andare a capire la funzione del campione di interesse in questo caso abbiamo è una tecnica di microscopia dove in real time possiamo in questo caso andiamo a funzionalizzare queste due sfere con del DNA e in real time possiamo misurare delle forze talmente piccole nel range del pico newton in real time quello che possiamo fare possiamo sia misurare queste forze molto molto piccole ma anche andare a fare in real time l'imaging di questi interattori sempre in questo caso una molecola di DNA ma può essere funzionalizzata con cellule actina microtubuli quindi è molto versatile come potete vedere passiamo dalla struttura ad alta risoluzione alla funzione alla funzione dinamica dei nostri interattori la sesta unità è quella di technology development quindi quello che noi vogliamo fare vogliamo prendere le domande dell'utenza interna ad ht dell'utenza esterna che accederà alle piattaforme vedere sostanzialmente noi non vogliamo mai dover rispondere non si può fare andiamo a dire non si può fare adesso e come Marino e Gian Mario hanno spiegato ci saranno tanti mezzi e tanti canali per poter spingere questo tipo di progetti queste sono le facce della facility sono le persone che le compongono giusto una nota sono persone altamente qualificate non solo nel condurre esperimenti ma con una forte attitudine a provide service a fornire servizi e questa è una cosa che appunto non vogliamo passi inosservata ok quindi structural biology ci serve per studiare la forma tridimensionale delle proteine per capire la loro funzione la facility garantisce accesso a strumentazione che sarebbe impossibile installare tutte nello stesso tetto altrove e la nostra missione non è soltanto quella di fornire accesso ma anche quella di fornire training e sfondare la barriera tecnologica che troviamo ogni qual volta dovremo dire non si può fare grazie mille benissimo con la presentazione di Paolo Sweck abbiamo completato la panoramica delle piattaforme nazionali offerte di Human Technopole c'è un commento che volevo fare e un ringraziamento che volevo fare il commento è un po' la discussione che abbiamo avuto nel coffee break con la senatrice Elena Cattaneo e cioè il fatto che c'è una relazione tra ricerca e piattaforme nazionali e cioè le piattaforme nazionali dovete pensare tutte le piattaforme tecnologiche rispondono ai bisogni della ricerca più i bisogni della ricerca sono alti più le cose non si possono ancora fare ma si possono fare poi con il sviluppo della tecnologia come diceva Paolo più le piattaforme saranno performanti e ad alto livello quindi è impossibile avere piattaforme separate dalla qualità della ricerca questo è un punto che volevo sottolineare perché distingue anche in questo senso quello che può dare Human Technopole alla ricerca in Italia alla comunità nazionale e quello che renderà secondo me anche Human Technopole performante veramente a livello internazionale non soltanto in Italia cioè quindi vorrei ringraziare i scienziati Human Technopole che hanno permesso la costruzione di queste piattaforme e che hanno dedicato un sacco di tempo e di energia a renderle a reclutare i cinque responsabili di piattaforme che avete visto tutto lo staff delle piattaforme e a trasferire con molta pazienza tutte le tecnologie dei laboratori alle piattaforme quindi ringrazio Nicol Soranzo e Piero Carninci ringrazio Alessandro Vannini Gaia Pigino Emanuele Di Angelo Antoni e Francesca Ieva che è del Politecnico di Milano Andrea Sottoriva e Florian Hug e Giuseppe Testa Emanuele Di Angelo Emanuele Di Angelo